Siamo arrivati all'ultima delle tre giornate, ci restano tre cantari che leggeremo stamani per arrivare appunto al quindicesimo. La prima lettura sarà di Nicola Catelli, ecco una sua breve presentazione. Nicola Catelli è RTDB di letteratura italiana all'Università di Parma, è stato assegnista di ricerca all'Università di Verona e alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è codirettore della rivista Parole Rubate, una rivista interamente dedicata all'intertestualità, su cui tutti abbiamo più o meno pubblicato. I suoi interessi di ricerca riguardano in particolare la letteratura cavalleresca, la lirica del sedicesimo e del diciassettesimo secolo e la contemporanea. Soprattutto poi anche il rapporto tra la letteratura e le arti visive e le forme dell'interstitualità e della parodia. Ha pubblicato l'edizione delle rime di Pomponio Torelli e di alcune monografie, Scherzar coi santi, prospettive comiche sul sacco di Roma e sulla parodia del Cinquecento, nel Cinquecento. Poi su Punci ha pubblicato gli articoli, le faville del battaglio, sull'edizione illustrate del Morgante nel 2017 e la scimmia nello specchio, il proemio del Morgante e la morte di Margutte nel 2018. Gli lascio la parola per la lettura del canto tredicesimo. Grazie, si sente bene la voce? Sì. Grazie della presentazione e grazie di cuore a tutti gli organizzatori di queste giornate, sia per l'ideazione e la conduzione del convegno tripartito su tre sedi, peraltro, sia anche per la bella atmosfera che è stata creata in queste giornate e che non è aspetto secondario, credo, per il buon funzionamento dei lavori e per le discussioni. La proiezione si vede? Bene. Fra le ottave premiali del Morgante, che soprattutto gli studi di Cristina Cabani e di Giuseppe Ledda hanno invitato a riconsiderare in rapporto alle forme dell'invocazione poetica, dell'interpettualità, dell'autore rappresentazione dell'autore, nonché agli sviluppi dello spazio del poema, del proemio all'interno del poema cinquecentesco, l'invocazione iniziale del cantare tredicesimo si segnala per più di un motivo. Leggiamo anzitutto i versi che ho riportato nella slide. Vergine sacra, d'ogni bontà piena, madre di quel per cui si canta osanna, virgine pura, virgine serena, dammi la tua quotidiana manna, con la tua mano insino al fin mi mena di questa istoria, che il tempo ci inganna, e la vita e la morte e il mondo cieco, sì che io faccia ascoltare ciascun con meco. Rispetto ad altri esordi, colpisce anzitutto l'intonazione dolente della seconda parte dell'ottava, che rende più incisiva la canonica preoccupazione per la conduzione del poema, che è un aspetto formulare, certo, che però in generale non va trascurato in un poema come Morgante, che ha al proprio interno una così marcata interruzione, quindi il rischio di non condurre a termine la materia è effettivamente molto concreto ed è incluso nella narrazione stessa. Questa intonazione anticipa le inflessioni accurate degli esordi del secondo Morgante e induce a osservare più da vicino la formulazione dell'ottava. La tramatura intertestuale di questi versi sovrappone fra loro alcuni luoghi topici dell'invocazione mariana, dando vita a un intarsio sofisticato che coinvolge anche i contesti da cui provengono le singole pericopi. Si prospetta quindi una lettura stratificata a più livelli di comprensione di questa ottava, come del resto avviene per molti luoghi del poema. Luci seleziona qui tre celebri preghiere letterarie. I primi due versi dispari, il verso 1 e 3, riprendono la canzone della Vergine di Petrarca. Il primo verso rielabora con poche variazioni. Il verso 40, che vedete qui, della canzone Petrarcaesca, Vergine Santa ad ogni grazia piena, anch'esso in rima con Rasserena, mentre il primo è mistichio del verso 3, ricalca il verso 27 della stessa canzone, Vergine pura ad ogni parte intera, con un innesto che è agevolato dall'assonanza tra intera nel testo di partenza e serena nel testo di arrivo di Pulci. Invocazione alla Vergine, poi, dell'ultimo canto del Paradiso Dantesco, lascia una traccia eufonica nell'incipit, Vergine Sacra, da Vergine Madre, in luogo del Vergine Santa di Petrarca, che è una traccia poi corroborata dalla ripresa, appunto, di Madre nel verso successivo. Quindi la prima antitesi dell'esordio dantesco è distesa in un parallelismo fra gli appellativi collocati in due versi susseguenti. Ed è interessante notare, sul piano delle modalità intertestuali, come il prelievo della canzone Petrarcaesca sia associato a elementi del modello principale con cui la canzone stessa si confronta, appunto, la prelieva dantesca alla Vergine, a rimarcare lo statuto derivativo della tradizione letteraria e a richiamare anche la dimensione di complessiva riscrittura e reinvenzione entro cui si colloca il Morgante. E, d'altra parte, uno degli aspetti rilevanti dello straordinario incipite del poema su cui riflettevamo due giorni fa, appunto, è stato ricordato nella prima relazione, presenta il volgarizzamento dei primi versi del Vangelo di Giovanni, che è anche, a parer mio, una sorta di dichiarazione di poetica. Il canto prende avvio esibendo una riscrittura, prende avvio nel segno della riscrittura, e della riformulazione, della libera reinvenzione. Tornando alla preghiera di San Bernardo la Vergine, un ulteriore ricordo dei versi danteschi va forse ravvisato nell'espressione d'ogni bontà piena, nell'ottava di Pulci, che, in modo impreciso, richiama i versi 20 e 21 del trentatresimo del Paradiso. In te saduna quantunque in creatura e di bontate. Ripresa imprecisa perché che in Maria non si aduna ogni bontà in termini assoluti che è un attributo di Dio Padre, ma la bontà relativa a tutte le creature di Dio, come si legge appunto in Dante. Infine, terza preghiera di questo intarsio, collocata nei versi pari della prima parte della stanza, la trasposizione del Padre Nostro, con cui inizia il canto undicesimo del Purgatorio, già citato in modo letterale nei primi quattro versi del cantare sesto, come ha ricordato Franco Astrologo nella redazione di ieri mattina, e ripresa qui una sorta di complemento, di prosecuzione, attraverso le due citazioni che ho evidenziato, si canta Osanna, nel verso 2, e letteralmente, dammi, quasi letteralmente, dammi la tua quotidiana manna, al verso 4. E anche in questo caso si registra uno spostamento di attributi da Dio Padre alla Vergine. Non è Maria a concedere la manna, il pane, il cibo spirituale, ma appunto Dio Padre. Nel caso di dammi la tua quotidiana manna, si registra un spostamento di attributi da Dio Padre alla Vergine, perché non è Maria a concedere la manna, il cibo spirituale, ma appunto Dio Padre. E questo spostamento non va inteso in quello che ho definito una sorta di religiosità, teatralmente sgangherata. Penso che il passaggio dal nostro pane quotidiano alla tua quotidiana manna suggerisca l'idea di una condivisione su un piano più umano, da creatura a creatura, che rafforza l'area semantica della comunità sconcorde evocata nell'ultimo verso dell'ottava. Sì che io faccia ascoltare ciascun con meco. Si era perso un po'. Ecco qui. Vale la pena sottolineare un dettaglio ulteriore. I versi del purgatorio dantesco qui citati da Pulci sono presenti anche nell'Orlando da Urenziano, ma non nell'ottava d'esordio del cantare venticinquesimo, che è il cantare corrispondente insieme al ventiseiesimo, la materia del cantare tredicesimo di Morgante, ma nell'ottava, che è già stata ricordata ieri da Franco Astrologo, del cantare undicesimo. E se osservate i due testi a confronto, la prima ottava dell'undicesimo dell'Orlando da Urenziano e i versi danteschi, potete vedere che il cantare anonimo cambia del testo dantesco proprio quelle parti, cioè cantando Sanna e da oggi a noi la quotidiana manna, che invece il testo di Pulci conserva dopo aver cancellato viceversa o lasciando implicite le altre parti. Quindi c'è un vero e proprio intarsio da questo punto di vista e un'undicesimo però sembra abbastanza inutile se non sia presente questo luogo del testo. E sembra qui di intravedere quasi il gioco privato, tutto personale, che Pulci compie con l'Orlando, con la sua fonte, una fonte da cui però ricava l'idea di concordia, dacci concordia Maria a pregarvegno, si legge nel testo, che si riverbera, come abbiamo visto, anche nell'ottava del cantare tredicesimo e che ritroveremo anche nel corso di questa lettura. Il verso seguente dell'ottava di Pulci, con la tua mano in sino al fin Mimena, è presente anche nell'ottava d'esordio del canto nono del Morgante, gemella rispetto a questo come vedete dai vari riscontri per la stretta rispondenza testuale, per il comune utilizzo della canzone petrarchesca, per il riferimento finale al pubblico del poema. E sono anzi questi i due soli casi in esordio in cui affiore la presenza degli ascoltatori. E se nell'ottava iniziale del cantare nono, l'invocazione del poeta, come fine il piacere del pubblico a ciò che il mio cantare piaccia a chi ascolta, nell'ottava iniziale del cantare tredicesimo la richiesta interessa la possibilità stessa dell'ascolto e della condivisione, sì che io faccio ascoltare ciascun commeco tra canterino e pubblico. E questa possibilità di comunione nell'ascolto che è permeata quasi da un senso di necessità è motivata da un'apertura verso la realtà esterna al poema che in sede d'esordio non ha raffronti con le altre ottave iniziali. L'ausilio celeste è infatti reso necessario non dalla debolezza morale del poeta, dalla fallibilità dell'ingegno, dalla fatica della composizione, questo per ricordare alcune delle cause impedienti che vengono richiamate in sede d'esordio ma da una condizione esterna al poema che qui si affaccia per la prima volta appunto nell'incipito di cantare ovvero gli inganni del mondo il tempo ci inganna e la vita e la morte e il mondo cieco che minacciano il poema stesso dal suo compimento e che rispecchiano anche i temi importanti di questo cantare insieme alle polarità opposte della sincerità della giustizia della congruenza tra parole e azioni Alessandro Polcri nella prima intervento nella prima sessione di queste giornate sul cantare secondo ha mostrato un esempio convincente di collegamento tra gli elementi religiosi dell'ottava di esordio e la materia del canto e anche Annalisa Perrotta ha fornito sempre in questa prospettiva un ulteriore esempio dal canto undicesimo aggiungiamo anche questo caso in cui però il legame tra ottava e canto non riguarda tanto gli elementi religiosi quanto un'esplicita tematizzazione appunto dell'inganno la presenza dell'inganno dell'errore può essere rapportato ulteriormente alla canzone Piotrarchesca e la stessa stanza in cui vedete compare al centro Rasserena che ha lasciato una traccia derivativa nel testo di Pulci ma mi importa soprattutto notare l'espressione mondo cieco dantesca che proviene dal ventisettesimo dell'inferno il canto di Guido da Montefeltro il canto dell'inganno del consiglio di frode sul piano politico e religioso che a sua volta appunto questo riferimento conforta la dimensione tutta terrena dell'inganno a cui sono sottoposte le creature umane coerente con questi testi di partenza la citazione è coerente soprattutto con la lunga sequenza di macchinazioni di inganni messi in opera da Gano l'abbiamo visto nelle letture di ieri messe in opera da Gano e confortate dalle scelte dell'imperatore che sono sempre dettate da Gnavia dal silenzio di fronte al soffruso dal calcolato sostegno agli intrighi di corte e che portano alla condanna morte l'abbiamo visto di Astolfio Ricciardetto alla marginalizzazione di Rinaldo Guivieri e Orlando e che si conclude questa macchinazione temporaneamente con la strage dei Maganzesi con il rovesciamento di Carlo in coronazione di Rinaldo acclamato dal popolo di Parigi coerente insomma questa derivazione con la complessiva riflessione sul male che si attua nel poema e anche nel primo poema nella prima parte ora se il cantare tredicesimo rappresenta in parte la conclusione di trame precedenti e in parte l'avvio di nuove vicende incentrate sulle avventure dei paladini in Pagania ecco che prima di procedere al rilancio della trama il poeta tiene a precisare il rispecchiamento tra gli inganni narrati o in procinto di essere narrati e la dimensione complessivamente ingannevole del mondo e di conseguenza tiene a precisare il rispecchiamento tra personaggi del poema e figure riscontrabili dal di fuori del pesto indirizzando l'attenzione del lettore dell'attrice del poema verso gli antidoti a questo male che il poema può inoculare anzi è proprio l'idea del poema come rappresentazione di un mondo percorso e assediato dall'inganno dall'incertezza a rendere necessaria la narrazione e la sua condivisione attraverso il canto e l'ascolto si lo faccia ascoltare ciascun con meco per quanto anche la stessa parola poetica non sia aliena e lo vedremo subito dall'ambito dell'inganno vediamo allora alla narrazione ho riportato le articolazioni principali nella schermata la narrazione inizia con il soccorso di Chiariella a Orlando e Terigi che sono imprigionati dall'amostante vedete un'illustrazione settecentesca a fianco che rappresenta questo episodio Terigi riesce a fuggire grazie allo stratagema di Chiariella dalla prigione arriva in Francia dove riferisce le sorti di Orlando e innesca il processo di ripartenza di Orlando Vivieri e Ricciardetto e dello stesso Terigi in soccorso di Orlando per far sì che questo processo avvenga Rinaldo deve rinunciare alla corona che ha appena acquisito successivamente Rinaldo e compagni arrivano a Saragozza città di Re Marsilio c'è qui un episodio molto articolato che può essere scomposto in tre parti il duello tra Marsilio e Rinaldo l'accoglienza di Rinaldo e compagni alla corte di Marsilio e poi lo scontro tra Rinaldo e un cavallo selvaggio che fa strage nei dintorni della città infine la ripartenza di Rinaldo e compagni e l'arrivo alla città di Arma in soccorso della popolazione contro il tiranno Vergante sarà poi sviluppato questo episodio nel canto successivo dicevo la parola non è aliena dalla sfera dell'inganno e lo vediamo subito nella seconda ottava l'inganno è già presente in questo episodio Terigi e Orlando sono stati catturati nel sonno legati e impregionati nel fondo di una torre secondo una modalità simile a quella che sarà la cattura di Ruggero alla fine dell'Orlando Furioso episodio da cui pure come in questo cantare si svilupperà anche il tema dell'amicizia l'inganno è presente non solo per questo non solo perché il fondo dell'attore richiama tipicamente l'area semantica del carcere inferno ovvero il mondo cieco o cieco carcere per usare un'altra tessera dantesca che abbiamo visto nell'ottava premiale l'inganno è presente anche perché è attraverso le possibilità della finzione della parola e di una parola dunque che non esclude dal suo repertorio il ricorso all'inganno come strumento di difesa dall'inganno stesso è attraverso questo artificio della parola questo inganno della parola dicevo che prende avvio il processo di liberazione di Orlando frode macchinazione fascinazione delle parole sono appunto gli elementi che compaiono in questa ottava la dammigella chiariella con dolce parole con motti ben cogitati e soavi diceva al padre così farsi vuole punire sempre i fredolenti e bravi mentre lei si appresta all'inganno però di questo caso non mi duole e vo che lasci a me tenere le chiavi e governarli e serrare ed aprire a ciò che non ci possa ignun tradire chiariella con forte Orlando di cui si è innamorato attraverso un complicato gioco di specchi chiariella è innamorata già per fama di Orlando e attraverso questa suggestione si innamora del valente cavaliere che è arrivato alla città della mostante e che ora scopre essere appunto Orlando la donna torna così dalla mostante e di nuovo lo inganna raccontando che lo scudiero Terigi è impazzito non mangia rischia di morire e in questo modo tiene la possibilità essendo pedina secondaria di questo gioco di scarcerare lo scudiero di Orlando che può così cavalcare senza dimora su Vagliantino e riportare alla corte di Parigi notizie di Orlando ora questo episodio è una chiara reduplicazione dell'arrivo di Chimento a Parigi nel Cantare Terzo simili sono le reazioni dei paladini alle notizie riportate dal messaggero simili alle decisioni di Rinaldo e compagni di partire subito in soccorso di Orlando analoga poi la sequenza delle prime avventure di Rinaldo là l'arrivo all'abbazia di Chiaramonte lo scontro con il gigante Brunoro l'intervento nella lotta tra il drago e il leone che farà di quest'ultimo un ambiguo compagno di Rinaldo e poi l'introduzione del tema amoroso con la comparsa del personaggio di Florisena qui invece l'arrivo a Saragozza lo scontro con il re Marsilio la lotta di Rinaldo con il cavallo selvaggio che viene addomesticato dal paladino e donato a Luciana figlia di Marsilio come pegno d'amore c'è un calco abbastanza simile ora questa pur rapida osservazione delle convergenze fra le due situazioni narrative permette di rilevare un aspetto interessante del dosaggio degli elementi la riproposizione della sequenza fa registrare qui una diminuzione dei tratti soprannaturali in favore di una dimensione mondana realistica in linea o maggiormente realistica naturalmente in linea con l'apertura al mondo esterno che abbiamo registrato nell'esordio del cantare al gigante Brunoro si sostituisce Marsilio che qui fa la sua prima vera comparsa dopo il cenno presente nel cantare ottavo alle creature allegoriche e araldiche si sostituisce il cavallo per quanto terribile e selvaggio esso sia facciamo però un passo indietro Terigi dicevamo torna a Parigi e fa fronte a un piccolo inganno della sorte reso questa volta in termini comici vedete l'ottava la parte di ottava a fianco Terigi si partì senza dimora sella il cavallo ed uscì dalle porte e tanto cavalcò per Monte Piano che giunse ove non era Carlo Mano c'è un piccolo refuso con una minuscola sono versi che non sono presenti nell'Orlando Laurenziano il cambiamento di situazione è affrontato da Terigi con le risorse della parola lo scudiero di Orlando rivolge infatti con abilità la propria richiesta di aiuto a Rinaldo Orlando dice Terigi si accomanda a Carlo Magno a te Rinaldo over Santa Corona ovvero l'imperatore al suo cognato Olivieri all'amico al compagno prima che così perda la persona definendo le singole forme di rapporto con Orlando Terigi induce chi ascolta a non sottrarsi ai propri doveri morali e alle proprie responsabilità politiche è suggestivo mi sembra che le tipologie di rapporto dei singoli personaggi citati con Orlando siano ricalcate con un accorto a disposizio sulle distinzioni del cerchio nono dell'inferno in cui sono puniti i traditori dei familiari della patria degli ospiti dei benefattori Rinaldo è chiamato in causa in quanto imperatore la patria Olivieri in quanto cognato la famiglia altri membri della corte in quanto amici e compagni per estensione gli ospiti e Carlo Magno senza attributi implicitamente in quanto costantemente beneficato da Orlando e dunque evitando di soccorrere Orlando anche questi versi mancano nell'Orlando Laurenziano ognuno incorrerebbe di fatto nel tradimento torniamo sul tema centrale di questo cantare come di tutto il poema dopo aver ascoltato Terigi Rinaldo chiede consiglio a Namo e ravviso in questo passaggio narrettivo uno degli snodi più importanti del cantare se la tessera Mondo cieco dell'ottava iniziale rimanda alla bolgia dei consiglieri fraudolenti il saggio Namo fornisce qui invece un consiglio improntato a somma virtù a franchezza a concretezza di azione poiché solo Rinaldo e Ulivieri dice Namo per la forza e il grande amore verso Orlando possono realmente concretamente dare aiuto al paladino Rinaldo dovrà rinunciare alla corona restituirla a Carlo lasciando a stolfo come confagoniere probabilmente a sorvegliare il comportamento di Carlo e le azioni dei maganzesi per partire appunto in soccorso del cugino la sottolineatura nel discorso di Namo della forza e del grande amore mi sembra un possibile capovolgimento virtuoso di quanto si legge nel primo cantare che per molti aspetti credo svolga una funzione di premio all'intero all'intero poema l'espressione la forza e il malvoler giunto all'ingegno che definisce i tre fattori concomitanti che determinano le sciagure più gravi della storia che determineranno infatti anche la rotta di Roncisvalle e che qui viene credo puntualmente rovesciata se si considera che la forza e il grande amore il grande amore e il corrispettivo del malvoler indicati da Namo si sommano all'ingegno stesso del consiglio e prima ancora all'ingegno utilizzato da Chiariella per far partire per innescare il meccanismo di liberazione la risposta di Rinaldo al consiglio di Namo è immediata Rinaldo appena aveva Namo detto che disse così posto sia il suggello questo suggello è una ripresa se avvaloriamo la derivazione in questa direzione del termine che compare anche in altra sede nell'Orlando Laurenziano e che qui viene in qualche modo rifunzionalizzato diventa questo sigillo metaforico come è stato indicato dai commenti dagli studi sugli aspetti intertestuali del del Morgante diventa un riferimento al verso di Dante diciannovesimo dell'inferno e questo sia su gel con uomo sganni che è una memoria interessante nella nostra prospettiva perché richiama un contesto in cui parole di verità si contrappongono all'inganno con uomo sganni e per inciso ancora una volta è suggestivo notare credo come le citazioni di Pulci coinvolgano anche il contesto e siano spesso dei suggerimenti a verificare ciò che viene omesso dalla citazione vera e propria dalla pericope ritagliata dal testo di partenza che pure va valutata e messa in relazione al testo di Arlino questo passaggio mostra bene anche la libertà con cui Pulci attinge dalla materia dell'Orlando e orienta grazie a questa calcolata questo calcolato prelievo la trama e il suo significato nell'Orlando valorenziano infatti Terigi giunge di fronte a Rinaldo ma insiste per consegnare direttamente la lettera di richiesta d'aiuto a Orlando e successivamente dopo che Orlando ha preso la decisione di rinunciare alla corte di reinsediare Carlo sul trono Astolfo propone al cugino di far impiccare Carlo quindi una sorta di contrapasso per quanto lui stesso ha subito non appena Carlo ha tirato dalla proposta di pace di Rinaldo mettere a piedi a Parigi quindi Astolfo dà un consiglio di frode e questo è nell'Orlando lorenziano non viene ripreso più Rinaldo scusate dunque si mostra disposto ad abbandonare persino la condizione per quanto precaria e recentemente acquisita di imperatore pur di soccorrere l'amico è la polarità tematica diametralmente opposta all'inganno al tradimento ed è l'esemplificazione credo di una comunità più alta realmente umanistica fondata anzitutto sull'etica e sulla dignità umana un antidoto insomma forse utopistico ai mari del mondo la lettera che Rinaldo scrive subito dopo a Carlo per farlo rientrare a Parigi rappresenta e che è un capolavoro retorico rappresenta in questo senso non soltanto una summa di tutti i canti precedenti una sorta di bilancio critico in cui si sancisce come il tradimento abbia luogo tanto per il volere del traditore Gano quanto per la possibilità di azione di impunità che l'ignavia e la convenienza di chi ha posizione di potere garantiscono colpevolmente al traditore rappresenta questa lettera anche un confronto fra due modelli di sovrano Rinaldo e Carlo il sovrano appena destituito e il sovrano di nuova imposizione Morgante è del resto poema delle armi e delle lettere forse il poema in cui si registra una più intensa presenza di lettere l'ideale plancia del poema è costantemente percorsa dai cavalieri e dai messaggeri del pari dalle lettere e sarebbe forse interessante fare uno studio sugli epistolari del Morgante magari sull'epistolario che a volte è anche un carteggio di Gano e è un poema in cui le parole feriscono quanto le spade leggo soltanto l'incipit non l'ho riportata a testo a video scusate della lettera di Rinaldo che inizia così perché sei vecchio io to pur riverenzia e in crescimi tu sia si rimbambito che a Gano pur creda nella sua fredolenzia che mille volte o più t'ha già tradito senza trovare l'errore suo penitenzia e per suo amor di corte mai sbandito a Stolfo Ricciardetto a mille torti volesti uccider per il suo mal Conforti ma il Conforti è un'altra tessera infernale dal ventottesimo e quindi dal canto dei seminatori di Scisma la rilevanza di questo episodio per la lettura complessiva del poema è stata colta bene dall'edizione illustrata del Morgante pubblicata nel 1546 a Venezia da Comindatrino è quella che vedete a video che è allestita sul modello esemplare della celebre edizione del Furioso del 1542 di Giolito il cantare tredicesimo qui è introdotto da una axilografia ispirata all'ottava 26-27 in cui è rappresentato l'abbraccio con una diciamo lieve aggiunta diciamo che qui l'invenzio dell'axilografia libera le risorse laterali del testo c'è una leggera inversione perché nel testo non c'è non è rappresentato propriamente questo abbraccio ma si può intuire è rappresentato dicevo direttamente l'abbraccio di Carlo e Rinaldo di fronte alla corte commossa per la pacificazione avvenuta e per la sorte di Orlando la axilografia conclude un breve ciclo di illustrazioni sono sempre una per canto in questa tipologia di edizioni che si apre con la visualizzazione della liberazione di Astolfo che può valere anche implicitamente come prefigurazione della liberazione di Ricciardetto prosegue con la rappresentazione dell'incoronazione di Rinaldo nel cantare dodicesimo e sottolineo la presenza dell'elmo ai piedi di Rinaldo che è segno della sovranità acquisita con la forza se non addirittura di una sovranità non del tutto legittima e si conclude appunto con la restituzione della corona a Carlo questo abbraccio per inciso tra i due personaggi ha anche un valore narrativo raffigura infatti il momento in cui si uniscono la conclusione della sequenza di eventi dei canti precedenti con il ritorno di Carlo sul trono imperiale e l'inizio delle nuove avventure di Rinaldo e compagni che stanno per allontanarsi da Parigi come suggerisce anche la presenza degli astanti in lacrime le edizioni illustrate del poema presentano per questo cantare in genere delle vignette esilografiche ispirate alla lotta di Rinaldo con il cavallo selvaggio che si legge alla fine del cantare vedete qui alcuni esempi è un episodio su cui oggi per ragione di tempo non mi soffermerò e tratterò direttamente nella versione a stampa di questo intervento la scelta illustrativa molto coerente della lotta di Rinaldo con il cavallo selvaggio si intravede anche nella psicografia centrale che è la edizione Pacini del 1500 1501 un personaggio appollaiato come il diro dice Pulci sull'albero a testimoniare dall'alto ciò che succede e che è un episodio che può essere messo in relazione con quella sottolineatura ironica del leone che sta in mezzo alle cose per vedere per testimoniare anche se con un gioco di diversità rispetto a questo possibile riferimento che pone una domanda divago un attimo scusate pone una domanda ovvero se le cose si capiscono e si testimoniano in mezzo stando si testimoniano meglio stando in mezzo agli eventi oppure stando fuori guardandoli dall'alto che è un tema che ricorre anche nelle satire di Ariosto non voglio però divagare ulteriormente anche perché avevo detto che non mi sarei soffermato sull'episodio è una scelta illustrativa coerente questa determinata dalla volontà di far risaltare gli elementi bizzarri mostruosi comico realistici del poema l'edizione del 1546 post furioso riduce in generale la presenza di questi elementi allegorici avventurosi in funzione di una nobilitazione della materia in senso epico e politico cortigiano sottolineo di questa tavola un aspetto rilevante credo per la lettura del canto ovvero la professione di umiltà di Rinaldo che abbraccia Carlo dopo avergli restituito benché immeritatamente come sottolinea nella lettera la corona per usare un'espressione del Dante dei canti dei superbi cioè il canto che è citato all'inizio nell'ottava iniziale Rinaldo in qualche modo qui è più e men che re si innalza e si abbassa allo stesso tempo questa è la lettura della tavola naturalmente la dimensione politica anche di questo cantare emerge così con molta evidenza e d'altra parte la compattazione non solo cantare della materia dei cantari venticinquesimo e ventiseiesimo dell'Orlando Laurenziano fa sì che nel tredicesimo del Morgante siano mostrati in sequenza cinque sovrani e dunque cinque modalità di esercizio del potere la mostante che tradisce in prigiona Orlando nonostante gli sia debitore per l'uccisione del gigante Marco Valdo Rinaldo che qui almeno in questo come dire in questo suo impero precario è prevalentemente esempio di sovrano virtuoso Carlo che si è rivelato sia oppressore del virtuoso Orlando ma che può beneficiare di una possibilità di redenzione Marsilio che Rinaldo e compagni incontreranno dopo la partenza da Parigi che è uomo generoso e discreto nonostante la bizzarria con cui si presenta in scena che vedremo tra poco e infine Vergante che compare nelle ultime ottave come anticipazione della materia del cantare successivo exemplum del tiranno del tutto opposto quindi a Rinaldo e appunto per questo destinato a essere ucciso dal paladino concludo allora con alcune osservazioni relative proprio all'episodio dell'incontro tra Rinaldo e Marsilio Rinaldo e compagni giungono nei pressi di Saragozza e senza essere riconosciuti vengono affrontati da Marsilio che impone a Rinaldo di cedergli Bagliardo perché questa è la motivazione del sovrano questo mattino mi venne in visione che io guadagnavo si nobile destriere siccome lo ha visto nel sogno del mattino allora per forza Rinaldo dovrà cedergli Bagliardo la risposta di Rinaldo che è conforme alla variazione novellistica del tono in questa parte del cantare è pronta e consiste nuovamente in un apologo piacevole e beffardo di Rinaldo novellatore è la novella dell'abitante di un burgo che sogna di possedere i buoi del vicino sogna di possederli ed esige dunque che il vicino gli riceda secondo la legge in vigore in quel tempo il caso viene portato di fronte a Salomone che conduce i due uomini i buoi su un ponte e chiede all'uomo che ha sognato i buoi di guardare il riflesso degli animali nell'acqua e a quel che gli sognò sono i versi nella slide disse ponmente vedi tutte le loro fattezze pronte laggiù nell'acqua e l'ombra si vedea di quei buoi che colui sognati avea tu che sognasti togli che sono tuoi colui che gli pagode aver vantaggio non bisogna sognargli che sono suoi così sta la bilancia di paraggio la edizione illustrata che vedete di fianco che è stata curata da Domenichi è pubblicata da Scotto nel 1545 utilizza delle silografie di riuso e per questo cantare sceglie appunto una silografia in cui compaiano i buoi a appunto sollecitare la memoria di questo di questo episodio questo apologo di Rinaldo che si presenta in forma veramente molto simile nell'Orlando naurenziano i mutamenti rispetto all'anonimo qui sono molto limitati e che compare anche all'inizio di una novella di Sacchetti come segnalava Davide Puccini nel suo commento ma che senz'altro di tradizione antica come hanno mostrato gli studi di Franca Geno Cesare Segre Carlo Curto anche essi ripresi nel commento di Puccini va letto questo aneddoto come risposta ingegnosa e come derisioni nei confronti dell'assurde pretese di Marsilio che non è ancora il Marsilio traditore degli ultimi canti come sottolineava Paolo Orvieto ma è già chiaramente identificabile come il filosofo in continuità con quel rispecchiamento tra poema in realtà che abbiamo visto nell'ottava l'apertura dopo la risposta infatti Marsilio e Rinaldo vengono alle armi e Marsilio incerto sull'esito dello scontro avendo già ormai compreso di essere in procinto di misurarsi con l'avversario sbagliato che prima aveva ritenuto uomo da bosco e da campagna e non aggiungo altro sulle possibili implicazioni di questo riferimento invoca Marsilio la protezione di Macone che poco val qui contro il suo potere contro il potere e la forza di Rinaldo a legare Trismegisto o vuoi Platone la stessa novella del resto con l'immagine dei vuoi riflessi nell'acqua sembra funzionale anche perché l'apologo sia tradizionale a sollecitare il ricordo del mito platonico della caverna in cui l'uomo finalmente liberato per assuefarsi alla realtà delle cose cito dalla traduzione di Mario Vegetti prima potrebbe osservare più agevolmente le ombre poi le immagini riflesse nell'acqua degli uomini e delle altre cose infine le cose stesse e alla luce di questo possibile raffronto ciò che sembrava inganno cioè il riflesso dei vuoi nell'acqua diventa invece un tramite per la verità delle cose allo stesso modo potremmo dire della narrazione poetica una finzione letteraria che nell'ottava iniziale sembra acquisire una dimensione di verità superiore alla stessa realtà di fuori del poema che invece è sotto il segno della polarità dell'inganno lo scontro termina con la caduta di Marsilio che vede sfumare così il possesso di Baiardo tanto che poi ci commenta Marsilio rovinò giù dall'arcione e fu pur sogno il suo non visione con riferimento alla distinzione tradizionale tra la vanità del sogno e dunque nuovamente l'inganno e verità dell'avvisio nonché con riferimenti a uno dei temi cari il sogno appunto il somnium dello stesso vicino Rinaldo a quel punto rivela la propria identità e dopo aver sconfitto il re e aver dimostrato la sua forza nel campo delle armi così come in quello della parola rende omaggio a tanto re dice si offre con somma magnanimità di Donardi Baiardo al di là della consueta impulsività di Rinaldo in queste decisioni avventate la sua condotta compare appare in continuità con la virtù e l'umiltà mostrate al momento della rinuncia della corona questa magnanimità è subito emulata da Marsilio che rifiuta l'offerta di Rinaldo per non commettere un oltraggio e chiosa brillantemente rispondendo sia a Rinaldo novellatore sia a Pulci Canterino è il sogno ver che ho acquistato il destriere poi che me lo dai ma non sognai cadere cadere nel duello naturalmente non solo il sogno è vero in parte o meglio secondo la visione parziale che sembra indicare cui Pulci abbiamo tutti della realtà ma il sogno di Marsilio è destinato ad avverarsi in modi imprevisti verso la fine del cantare appunto proprio Rinaldo doma il cavallo selvaggio che tormenta gli abitanti di Saragozza e ne fa donna Luciana figlia di Marsilio della quale si è prontamente innamorato la magnanimità e il rispetto delle reciproche differenze fra il re pagano e l'ex imperatore cristiano su cui termina questa sezione del cantare sembra così delineare l'aspirazione a una concordia terrena anche in questo caso con ripresa di un tema espresso nell'ottava di esordio una concordia temporanea per il pitante come tutte le situazioni del poema e del mondo forse una bella utopia destinata purtroppo ad essere sovvertita dai futuri tradimenti grazie petrarca di cui finora si è parlato poco ma la cui presenza soprattutto del petrarca trionfale è importantissima nella scrittura polciana mi veniva in mente questa parola manna comunque che è una parola che dal primo canto dalla manna che casca addosso e che sono i sassi poi e ricorre in continuazione all'interno del poema al punto che c'è da chiedersi come mai fosse così affezionata a questo termine tra l'altro un'altra cosa che appunto secondo me viene sempre più fuori è che in fondo e questo proprio per le osservazioni che è fatto per esempio sul personaggio di Marsilio è che in fondo la frattura tra la prima e la seconda parte non è poi così evidente così violenta come la si è sempre vista che non ci sia naturalmente ma le connessioni sono più no cioè probabilmente secondo mi fa di capire dalla tua interpretazione lui quando parlava di Re Marsilio già pensava all'esito che avrebbe avuto poi cioè che l'allusione il riferimento a Ficino sembrerebbe così ecco da questo comunque anche questa è una linea di indagine molto interessante mille altri spunti ne parleremo poi nella discussione grazie chiamo Andrea Torre allora Andrea Torre professore associato di letteratura italiana alla scuola normale superiore di Pisa e insegna letteratura italiana del rinascimento è autore di numerose monografie Petrarchieschi segni di memoria spie postille metafore del 2007 vedere versi un manoscritto di emblemi Petrarchieschi e scritture ferite innesti doppiaggi e correzioni nella letteratura di nascimentale del 2019 ha curato poi l'antologia di testi variazioni su Adone favole lettere e volumi letterature e arti visive nel rinascimento credo che appunto questo suo rapporto tra la letteratura e le arti visive sia sempre stata al centro dei suoi interessi allora lui e la lettura del canto quattordicesimo bene grazie sentite grazie Cristina per la presentazione generosa e mi associo molto volentieri ai ringraziamenti e alle considerazioni circa l'ottima riuscita fino a questo punto del convegno e delle belle giornate vissute insieme qua a Pisa allora io anche un po' in relazione meno male alle linee di ricerca che hanno un po' sempre caratterizzato il mio lavoro vorrei offrire proprio il mio contributo alla discussione indagando il cantare quattordicesimo come testimonianza del trattamento che Pulci riserva a una delle soluzioni espressive connotanti la tradizione del poema narrativo cioè l'ecfrasi e vorrei farlo considerando l'ecfrasi pulciana tanto in sé nella grammatica che ne definisce lo statuto quanto in relazione agli altri piani del discorso poetico-culturale che la ospita e coi quali condivide a mio modo di vedere responsabilità narrative e semantico-linguistiche la scelta si spiega ovviamente col fatto che due terzi del cantare in questione sono occupati proprio dalla lunga e a tratti iperbolicamente enciclopedica descrizione del padiglione donato da Luciana a Rinaldo come pegno d'amore e a corredo dell'aiuto militare offerto per liberare Orlando in Persia le prime trenta ottave circa valgono dunque in larga misura da contestualizzazione della performance ecfrastica che almeno in termini dimensionali vede fortemente amplificato il proprio ruolo entro l'economia di senso del cantare nel pieno rispetto peraltro di uno dei nodi teorici che determinano che determinano scusate lo statuto di questa forma espressiva la ecfrasi oscilla infatti a seconda delle circostanze narrative e dei generi letterari tra piano della narrazione e piano della descrizione o meglio tra narrazione fattuale ricca di eventi articolazioni e narrazione amplificata ornata ricca di dettagli e di figure retoriche amplificando notevolmente il registro descrittivo della propria scrittura in questo cantare pulci sovverte i tradizionali rapporti di forza tra piano della narrazione e piano della descrizione focalizzando l'attenzione dei lettori sull'inserto digressivo ornamentale piuttosto che sugli eventi della storia e questi ultimi sembrano quasi funzionali a mio avviso a preparare la fruizione del primo la dimensione visiva o direi più precisamente la dimensione scopica del racconto è sottolineata fin dalle prime ottave dove tanto la figura eroica di liberatore con cui Rinaldo si presenta nella città di arma quanto il suo scontro con il locale tiranno vergante vengono presentati entro un'aura spettacolare che cattura lo sguardo meravigliato di tutti i cittadini oppressi di fronte ai paladini pronti all'impresa l'oste guata Rinaldo ed oliviere armato e molta ammirazione seco prendeva talmente valoroso era l'aspetto di Rinaldo in marcia verso il palazzo del tiranno che era a vederlo tutto il popolazzo nel momento dell'incontro convergante ognun tenea a Rinaldo gli occhi fissi e quando questi rovescia simbolicamente e letteralmente il tiranno privandolo dell'insegna del potere e scaraventandolo sullo stesso livello dei suoi sudditi ognun stava a vedere questa festa allestita proprio nel luogo deputato agli spettacoli la piazza eroe tiranno diventano qui dunque protagonisti iconici di una scena esemplare prodotta a beneficio di una comunità comunità configurata essenzialmente come uno sguardo collettivo impegnato in un'esperienza di visione un'esperienza collettiva un'esperienza collettiva di visione non priva di implicazioni ermeneutiche costui viene dal cielo che ciò che dice ogni cosa è il Vangelo si dicono l'altro i cittadini commentando le parole e le azioni di Rinaldo e soprattutto un'esperienza collettiva di visione disposta quasi a distituzionalizzarsi in rito attraverso l'iconizzazione in opera d'arte dello spettacolo appena fruito vogliamo per sempiterna tua memoria un simulacro farti d'oro saldo dove sia disegnata questa storia l'impresa di Rinaldo che libera la città di arma dalla crudele dittatura divergante e dagli atti di violenza da lui perpetrati contro le donne vale al paladino il riconoscimento di una statua d'oro dove il racconto di tale impresa viene raffigurato e affidato alla memoria collettiva gli eventi prima vissuti in presa diretta come in una festa si prestano dunque ora a essere rappresentati plasticamente e perpetuamente fruiti nella forma di una storia visiva quasi in un transito dall'oralità alla scrittura a una scrittura per sulle immagini la rinascita della popolazione di arma a seguito della rimozione del tiranno e della conversione al cristianesimo cristallizza pertanto l'impresa di Rinaldo in un mito fondativo che riconfigura l'identità di quella comunità la dota di un nuovo passato e ne rende esemplare la vicenda dunque dicevo quindi la rinascita della popolazione di arma a seguito della rimozione del tiranno della conversione al cristianesimo cristallizza pertanto l'impresa di Rinaldo in un mito fondativo che riconfigura l'identità di quella comunità la dota di un nuovo passato e ne rende esemplare la vicenda per l'impiego di stilemi ecfrastici nella descrizione di un evento naturale per le reazioni emotive a un'esperienza di osservazione e per la funzione identitaria riconosciuta alle immagini nella rinascita di una comunità l'episodio di arma può essere strutturalmente accostato a quello della città di Carrara dove sempre come abbiamo visto l'altro giorno un Herculeo Rinaldo salva Forisena e la cittadinanza tutta da un feroce mostro che imponeva continui sacrifici umani oltre che dal riconoscimento di un'investitura quasi messianica di Rinaldo costuivien dal cielo passaggio assente dal cantare d'Orlando i contorni assiologici della sequenza d'avvio del cantare quattordicesimo sono ben esplicitati anche dal puntiglioso violento ritratto per insulti attraverso cui il paladino delinea la figura di Vergante anticipando proprio quella enumerazione espressionistica che più avanti strutturerà larghi tratti della descrizione del padiglione istoriato là come qui l'accumulo di nomina non è solo un saggio di perizia retorica ma a mio avviso anche il segno della impossibilità o almeno dell'inefficacia a tradurre verbalmente un'immagine in tutta la sua interezza e complessità senza il ricorso a una prolifica invenzione linguistica parimenti nel contesto di organizzazione dell'intero cantare la narrazione dell'impresa di Rinaldo ad arma potrebbe essere letta non solo come una delle tante avventure dell'eroe di turno ma anche come la materia per un'ecfrasi futura del simulacro dorato nonché come l'anticipazione destrutturata di tutte quelle peculiarità di quell'esperienza espressiva che investirà tutte le successive ottave cioè l'ecfrasi già qui abbiamo infatti l'individuazione di uno soggetto osservatore implicito ossia i cittadini di arma a cui i destinatari dell'ecfrasi possono conformarsi tanto sul piano semantico quanto su quello etico la connotazione allegorica dei contenuti sottoposti all'osservazione data dalla stretta giuntura tra rovesciamento del tiranno e conversione dei cittadini e infine l'ostentazione dell'eccezionalità di un manufatto artistico che veicola tali contenuti qui il prezioso e duraturo simulacro d'oro saldo nel caso della descrizione del padiglione di Luciana questi istituti ecfrastici sono invece identificabili rispettivamente con lo sguardo di Rinaldo col simbolismo delle immagini naturalistiche e mitologiche rappresentate sulla tenda e con la sublime preziosa artificiosità del dono del dono d'amore contesto d'oro e seta sauriana quasi a sottolineare l'intrinseca continuità tra l'ecfrasi destrutturata d'avvio e quella ufficiale che si dispiegherà dall'ottava 44 anche il passaggio diversi dedicato alla missione d'aiuto di Luciana non rifugge da un'amplificazione della dimensione visiva a partire dall'ostensione della devise della figlia di Marsilio due cuori insieme incatenati facilissimo concettismo dell'intenzione della donna per giungere alla rappresentazione dell'incontro tra i due innamorati declinata a mio avviso secondo i caratteri del visibile parlare dantesco quasi come una formella purgatoriale offerta allo sguardo del lettore se l'ottava 41 vive sulla rappresentazione dell'accoglienza visiva che Rinaldo riserva all'arrivo dell'amata gli ultimi due versi canonica formula di coinvolgimento del pubblico aprono il campo visivo all'intera scena contemplando anche le azioni di Rinaldo dalla descrizione della visione insoggettiva di Rinaldo si passa così alla panoramica dell'intera scena narrativa con tutti i suoi protagonisti osservando l'estrema gentilezza di Luciana e l'intensa ammirazione di Rinaldo il lettore è dunque direttamente invocato a elaborare mentalmente una verbalizzazione dell'espressiva postura delle due figure sotto forma di illusione fonica quasi a voler inferire che il linguaggio sia implicito nel gesto consustanziale adesso in relazione alla potenza espressiva di tale gesto e dei pensare che la dama il saluta e che hai rispose tu sia benvenuta passaggio assente nell'Orlando laurenziano più specificamente tanto per strategia descrittiva quanto per corrispondenze di movimenti mi sembra più di una suggestione rinvenire qui una memoria del primo bassorilievo della cornice dei superbi prosaicizzato nella risposta di benvenuto che Rinaldo dà al saluto di una Luciana in terra dismontata l'immagine dantesca tra le più modellizzanti per la tradizione dell'effrasi letteraria italiana è peraltro ben presente a Pulci che la ostenta già nell'invocazione del primo cantare e ne ripropone anche la fine soluzione rimica ave suave attraverso cui Dante ingloba la parola chiave della scena primaria del cristianesimo nella stessa eloquente modalità posturale dell'angelo e che invece Pulci sfrutta quale auspicio per far della parola divina il nucleo germinativo del proprio stile poetico uno stile suave l'implicito riferimento purgatoriale del cantare quattordicesimo varrebbe anche da celebrazione preventiva sia del manufatto artistico che presto si descriverà sia del suo mirabile artefice l'eccezionale fattura della tenda ricamata è già sottolineata all'ottava 39 dove se ne preannuncia il carattere di fonte di meraviglia per i futuri osservatori in primis per quell'osservatore implicito che è Rinaldo ancora prima di rivelarsi alla nostra vista la tanta eccellenza del padiglione in rima con tal magnificenza investe infatti di meraviglia l'eroe e viene legittimata in quanto creazione mai esperita da occhio umano e rubricabile quindi come divina in relazione a quest'ultimo aspetto l'interpretazione pulciana dei canoni dell'ecfrasi oscilla tra uno scarto innovativo e la sua repentina correzione all'insegna della tradizione dal momento che dapprima l'artifex viene identificato in un amante devota piuttosto che in una figura sovraumana o dai poteri eccezionali tra Efesto e Turpino per intenderci ma subito dopo la stessa Luciana è iperbolicamente celebrata col riferimento a Minerva peraltro l'evocazione comparativa della Dea della Sapienza simbolo dell'ingegno artistico potrebbe gettare sulla figura di Luciana anche l'ombra della tessitrice Ovidiana Racne trionfatrice su malgrado di una potenza divina in quanto auctor implicito del testo visivo delineato sul padiglione a Luciana spetta inoltre il ruolo di primo interprete nei suoi significati per il lector implicito Rinaldo ciò che la donna spiega in sua presenza all'amato corrisponde sostanzialmente alla descrizione che a partire da quel punto Pulci offre ai suoi lettori se però facciamo un salto all'ottava 87 e seguenti sequenza assente nel Cantare d'Orlando ossia al compimento della lunga tirata ecfrastica possiamo constatare che gli istituti letterari dell'autore del lettore e dell'opera si ripresentano quasi senza soluzione di continuità così come notate la rima eccellenza magnificenza ma trasfigurati grazie a una memoria letteraria che agisce a mio avviso sia a livello testuale che contestuale l'intreccio dei versi iniziali fra il dettato del fragmento 77 e l'incipit di triunfus cupidinis secondo capitolo prediletto da Pulci già sfruttato all'ottava 70 con la ripresa del raro ed espressivo predicato ondeggiare proietta sulla figura lectoris di Rinaldo la bulimia visiva dell'agens trionfale e soprattutto sulla figura auctoris di Luciana l'impegnativa ombra di Simone Martini nonché il riflesso su Rinaldo ancora quella dell'io lirico petrarchesco in questo punto Pulci gioca anche un'altra memoria tessera poetica ovidiana quella di Filomela evocata come termine di paragone poi subito cassato d'altronde una donna che nel deserto scrive e disegna per denunciare uno stupro e una mutilazione che la ridotta al silenzio rappresenterebbe un paragone alquanto perturbante per Luciana meglio dunque guardare a Petrarca nel fragmento 77 l'esperienza estetica di rappresentazione dell'amata tanto in fase produttiva quanto in fase ricettiva conosce la sua estatica completezza e purezza solo in una condizione extramondana circoscritta fuori dal tempo e impossibile da riprodurre se vincolati a una sensorialità fisica l'eccellenza del Simon di Petrarca non deriverebbe dunque dalla maggior perizia artistica del senese rispetto ai mitici artefici dell'antichità bensì dalla sua esperienza di visione dell'oggetto del desiderio del poeta in una integra e unitaria forma vera in un platonico exemplar ideale la ripresa pulciana della medesima esperienza estetica implica minimi ma rilevanti slittamenti semantici dal momento che la stessa donna oggetta del desiderio Luciana assumerebbe qui anche il ruolo di artefice di un'ammirabile rappresentazione di sé impostata quale onnivoro accumulo di ogni elemento della realtà naturale più petrarchesco di Petrarca e a controcanto di uno dei capisaldi concettuali dei fragmenta Pulci risponde all'impossibilità di delineare un ritratto fedele realistico completo e soprattutto unitario dell'amata facendolo fare a lei stessa e organizzandolo come un'effettiva collazione senza residuo di ogni elemento naturale con una rappresentazione della vita stessa colta in ogni sua componente anche le più insignificanti e paradossali si pensi anche solo all'immagine del basilisco ossia di ciò che in realtà dovrebbe essere sottratto alla vista appena alla morte dell'osservatore con elaborazione direi se vogliamo collegare le due immagini del mito di Laura Medusa così caro a Petrarca ma si pensi anche alla perturbante figura di Proserpina unico inserto mitologico della sezione terrestre dell'ultima della sezione terrestre e ultima del padiglione e ultima figurazione descritta curiosa storia quindi con cui sigillare un pegno d'amore ma veniamo ora al padiglione storiato sulla scorta del modello fondativo dell'ecfrasi epica lo scudo forgiato da vulcano per Achille il padiglione pulciano presenta una struttura ordinatamente divisa in quattro sezioni ognuna delle quali è dedicata a ospitare un preciso contenuto e correlata alle altre in ragione dello schema logico dei quattro elementi naturali o alimenti proprio anche del racconto cosmogonico del Genesi nel segno dell'amplificazione inumeratoria e di una iperbolica vocazione alla totalità si dispiega davanti ai nostri occhi un sontuoso bestiario illustrato ritmato da continui effetti di reale dinamici e fonici la ripartizione dei soggetti ritratti e conseguentemente lo spazio riservato alla descrizione delle varie sequenze risultano nettamente squilibrati tra sezioni abitate da pochi referenti ma tutti emblematicamente rappresentativi della specifica categoria semantica e sezioni che costituiscono veri e propri repertori con la pretesa enciclopedica di un tesaurus memoriale come vediamo dall'ottava 61 non ne mancava al padiglione un solo di quei che fur nell'arca numerati per la descrizione per la descrizione del padiglione si adottano le principali soluzioni stilistiche della grammatica efrastica come ad esempio l'impiego di verba videndi la correlazione di pronomi dimostrativi e di indicatori posizionali il ritmato inserimento di avverbi temporali e di forme perifrastiche col gerundio interventi questi tutti i volti a evocare nel lettore una mappatura dell'immagine descritta una sua segmentazione in sezioni disponibili ad essere attraversate singolarmente dallo sguardo ma soprattutto ad essere percorse sequenzialmente e linearmente così da produrre la percezione di un tempo durativo che dinamizza il tempo puntuale dell'immagine da tradurre l'immagine in racconto parimenti funzionali ad alimentare l'effetto di reale della rappresentazione di un sifatto oggetto letterario risultano inoltre la ricorrenza del predicato parere nonché l'amplificazione del potere sinestesico dell'equfrasi nel riprodurre illusivamente un suono un movimento e un moto interiore del soggetto rappresentato le ottave in cui è divisato il padiglione sono quelle in cui maggiormente si sono soffermati i pochi interventi critici sul cantare quattordicesimo con un interesse focalizzato soprattutto sul rigoglio lessicale di una repertoriazione faunistica condotta da pulci tra precisione scientifica e gust della bizzarria come ha riscontrato Alice Ferrari proprio questo cantare è del resto tra i primi ventitré quello che attesta l'impiego di più termini ventuno di contro agliotti del secondo classificato potremmo dire il ventitresimo tra quelli raccolti da pulci nella seconda parte del cosiddetto vocabolista piccolo repertorio erudito di nomi e luoghi mitologici e di parole rare anche per il caso specifico del catalogo di nomina del padiglione questi strumenti di lavoro questo strumento di lavoro rivela la propria posizione mediana tra il testo poetico di pulci e i suoi possibili ipotesti classici e volgari come ad esempio la cerba di Cerco d'Ascoli e il bestiario toscano come ha mostrato mostra bene il commento della Geno l'Ecfrasi del Cantare XIV è stata inoltre indagata in relazione alla ricorrenza del topos del padiglione storiato nella precedente ecoeva produzione canterina per incompetenza non intendo addentrarmi nella spinosa questione del direzionamento dei rapporti di influenza tra questi testi mi limito però a notare che l'illustre tradizione classica e volgare dell'Ecfrasi a cui pulci sembra guardare direi con piena consapevolezza non solo persegue l'istanza catalogica dell'enumerazione enciclopedica di nomina a cui si riduce gran parte delle Ecfrasi canterine di padiglioni storiati come ha ben mostrato Paolo Orvieto imputando ciò a ragioni di brevità sperformativa per non recarnoia agli ascoltatori ma si cimenta anche nell'amplificazione in immagini di tali nomina o nella strutturazione in immagini di tali nomina funzionale a impostare una situazione narrativa di impianto scopico e a inserirne gli effetti entro la più ampia logica del racconto in tal senso potrebbe essere di qualche interesse analizzare ogni inserto ecfrastico anche come un fenomeno di intertestualità facendone emergere le più o meno significanti connessioni col preciso contesto testuale che lo ospita il cantare e rispetto al quale è sovente trattato come un digressivo corpo estraneo oppure con un contesto testuale più ampio il poema entro il quale potrebbe rivelare insospettate implicazioni narrative o infine con un effettivo contesto intertestuale extratestuale la tradizione letteraria nel quadro della quale contribuisce con la propria specificità la codificazione di un'isotopia appunto quello del padiglione storiano e dell'exfra rispetto al primo punto spero di aver fatto qualche considerazione nella prima parte della relazione soprattutto per quanto riguarda la dimensione visiva che attenua la distanza e direi anzi agevola l'osmosi tra segmento ecfrastico e sua cornice narrativa agli altri due punti dedicherò invece il poco tempo che mi resta presentandovi cursoriamente due casi di intertestualità a più largo raggio in termini tipologici l'exfrasi del cantare quattordicesimo dovrebbe essere discussa di concerto con quella del cantare primo riscrittura dell'episodio virgiliano della commossa contemplazione da parte di Enea delle vicende di Troia storiate sul tempio di Giunone a Cartagine o ancor più con quella del cantare ventiquattresimo che rappresenta una variante storica del motivo del padiglione storiato perché è incentrata sugli eventi della morte del padre di Antea ma soprattutto con quella del cantare venticinquesimo contemplazione tutta mentale e integrazione immaginifica del bestiario del padiglione di Luciana nonché ricordo della vicenda che riguarda lei e Rinaldo per alcune specifiche figurazioni del cantare quattordicesimo si possono poi anche stabilire relazioni con altri passaggi del poema non necessariamente di natura eprastica di particolare interesse come ha già mostrato Stefano Carrai è la convergenza tra il proditorio attacco del granchio contro l'ostrica raffigurato nel quadrante acqueo del padiglione che è una memoria di un passaggio della cerba e quello riservato dal medesimo animale a margutte che decreterà la morte del gigante coerentemente a molte ecfrasi epiche antiche e moderne l'immagine ricamata sul padiglione verrebbe in questo caso ad assumere una valenza profetica rispetto agli eventi del poema e una funzione prolettica rispetto alla loro narrazione un altro possibile dialogo tra figurazione ecfrastica e contenuti narrativi del cantare ma non solo del cantare si registra anche a proposito dell'immagine della nuova fenice illusivamente focalizzata sul ciclico movimento di metamorfosi e sulla sinestesia degli aromi del suo nido un'immagine che nello spazio di un'ottava è duplicata in quella dell'aquila che con moto verticale ne anticipa la circolarità chiusa tra morte e rinascita l'immagine è topica nella lirica e nell'iconografia in materia d'amore quale è emblema dell'inestinguibilità di una passione e della sofferenza ad essa connessa sarebbe dunque illustrazione pienamente contestuale in un pegno d'amore vorrei però sottoporre alla vostra attenzione anche un Alexio di Ficilior che potrebbe fare di questa immagine anche una sintesi emblematica e una compiuta iconizzazione simbolica degli eventi della città di Arma per il suo concettualizzare il percorso di rinascita civile e spirituale di una comunità abbiamo già detto che la configurazione messianica del liberatore Rinaldo e la conversione di fede dei cittadini costruiscono narrativamente un mito di fondazione o rifondazione nei termini di una vera e propria risurrezione e questo potrebbe essere l'aspetto contestuale che insieme al dato testuale degli aromi della Fenice potrebbe giustificare l'inserimento del passaggio pulciano entro una filiera intertestuale che contempla l'inferno dantesco e l'Orlando Furioso e che in chiusura vorrei illustrarvi partiamo da Ariosto e da un passaggio del discorso lunare di San Giovanni nel canto trentacinquesimo nel descrivere il legame analogico inverso tra mondo terrestre e mondo lunare ed illustrare per allegoria il potere di manipolazione della realtà da parte della poesia Ariosto mette allusivamente in bocca al suo Giovanni un passo del Giovanni biblico prima di diffondersi nella delineazione paradossale di una vera e propria controstoria col rivolgimento delle più consolidate vicende del canone epico occidentale e se tu vuoi che il verno ti sia scoso tutto al contrario l'istoria converti Ariosto suggella in alcune famose ottave la riflessione sul potere della poesia di eternare nella memoria collettiva il ricordo degli uomini degni proprio ciò che accade a Rinaldo nella città di Arma ma postilla Ariosto anche il potere della poesia di legittimare nel tempo la fama di individui tutt'altro che esemplari proprio costoro sfruttando l'opera prezzolata di abili costruttori di ficziones possono aspirare all'immortalità ancor che avessere tutti i rei costumi purché sapesson farsi amica cirra più grato d'ore avria che Nardo o Mirra rinascendo immacolati come la Fenice la spia del possibile legame intertestuale è qui il termine Nardo Apax nel Furioso ma anche nel Morgante che rinvia al Vangelo di Giovanni 12.3 l'indicazione del tipo di olio utilizzato per unger Cristo durante la cena di Betania compare anche in Marco 14.3 mentre in Matteo 26.7 si parla solo di un unguente profumato e in Luca l'episodio è assente nella tradizione letteraria però italiana il termine ricorre già in Inferno 24 109 111 sempre in titologia con Mirra e nel contesto referenziale degli aromi del nido della Fenice ma assolvendo la funzione di similitudine la miracolosa combustione rinascita del mitico uccello rende icasticamente l'estrema velocità con cui un peccatore della settima bolgia viene incenerito dal morso di un serpente e subito ridotato della propria forma umana così da subire nuovamente il medesimo strazio il contesto semantico della citazione dantesca come quello del passo biblico non è irrilevante l'azione narrata nel Vangelo di Giovanni avviene a casa di Lazzaro poco dopo che costui era stato riportato in vita e costituisce uno dei momenti in cui Cristo prefigura ai discepoli la propria morte e risurrezione non diversamente seppur in ben altra circostanza anche il passo di Dante ha a che fare con una rinascita quella del bestial Vanni Fucci ingiorioso ladro di arredi sacri che la legge del contrappasso rinnova all'infinito tra gli antichi commentatori danteschi solo Guido da Pisa ricorda l'occorrenza evangelica del termine botanico tra gli esegeti contemporanei della commedia che io sappia solo Robert Hollander si è azzardato ad affermare che cito Vanni rivive parudicamente la morte e risurrezione di Cristo in ragione del paragone con la fenice che fin dalla patristica e poi diffusamente nei bestiari medievali è evocata quale simbolo cristico la ripresa pulciana sembra aliena ad ogni declinazione parodica anche per il più lasco legame tra simbolo e suo ipotetico referente eppure e qui mi permetto un po' consapevolmente di forzare l'interpretazione l'imposizione della legge e della fede religiosa del vincitore sia pur esso di un eroe liberatore e la legittimazione di ciò attraverso un'abilità retorica Rinaldo come savio uomo ed astuto che le parole e l'opere sue in sala che è un passaggio anche esso assente dal cantare d'Orlando un'abilità retorica che produce Vangeli ossia costruzioni discorsive che si impongono quali verità sacrosante potrebbero assumere suggestive implicazioni proprio in prospettiva ariostesca nel passaggio dal resoconto del Giovanni evangelico all'attirata allegorica del Giovanni ariostesco attraverso la cruciale mediazione del poema divino la tessera lessicale degli aromi della Fenice delinea infatti un parallelismo tra la profumata risurrezione cristica o di Lazzaro e l'eterna permanenza in vita garantita ai signori viziosi dalla splendida fama dalla splendida fama che le lodi dei poeti avevano costruito intorno a loro ariosto fa così coincidere il Giovanni auctor e il Giovanni agens in ragione del loro comune statuto mondano di scrittore che sopra tutti gli altri fece acquisto che non mi può allevar tempo né morte e ben convene al suo signor Cristo conclude l'evangelista ariostesco ricompensarlo per le lodi evangeliche che lo hanno elevato a si gran sorte ariosto sceglie inoltre di dispiegare l'attacco ironico anche a livello di procedura compositiva sfruttando una minima tessera lessicale per attivare il ricordo dell'ipotesto biblico e soprattutto per presentare l'atto poetico quale semplice finzione in cui uno scrittore esercita sempre e comunque il suo potere creativo sul mondo la sua autorialità e autorità inventiva nell'influenzarlo nel ricrearlo nel plasmarlo come ha suggerito l'altro giorno Davide Puccini e ha ribadito poco fa Nicola ancora più esplicito sembra essere Pulci in avvio del suo poema con la fedele versione dell'incipit del Vangelo di Giovanni dove abbiamo visto che l'inciso al parer mio potrebbe essere colto anche come autolegittimante proclamazione di un'autonoma identità autoriale sono proprio io a pensarla così grazie grazie anche per questo intervento che ha trovato la chiave interpretativa appunto nella impostazione frastica di questo canto mi ha colpito molto cioè quello che dicevi sulla ricerca che si potrebbe fare in campo in questo caso intertestuale cioè perché vedendo anche rivedendo le note della Genua io l'avevo guardata a proposito della della Cerba ma il praticamente tutti i tasselli hanno una fonte precisa che viene spesso quasi tradotta anche la coppia Nardo-Mirra vedo che è indicata in questo caso qui quindi appunto diciamo è un'indagine questa qui che deve abbastanza necessaria ma l'altra cosa che mi veniva in mente all'inizio era questa visività del poema per esempio questo che già era venuto un po' fuori ma qui si vede meglio cioè questo continuo invito a guardare ci sono che corrispondono un po' a quello che era il pubblico interno delle chansons des gestes che era stato poi anche un po' inglobato nei cantari guarda quello eccetera è un aspetto e che Pulci rielabora in maniera del tutto originale facendone proprio una chiave di diciamo una costante ecco all'interno ed è vero questo aspetto visivo è molto molto rilevante nell'organte grazie anche qui abbiamo molti spunti su cui potremmo discutere allora Maiko Favaro da molti anni svolge attività insomma ha svolto finora attività didattica presso l'università di Friburgo ma dall'agosto del 22 prenderà servizio come ricercatore di tipo B alla Sapienza in quanto vincitore del programma per giovani ricercatore Rita Levi Montalcini si è formato alla scuola normale all'università di Pisa e però ha anche molte esperienze in campo europeo dalle varie marichurie ad altre borse prestigiose che ha avuto è autore dei numerosi libri il primo l'ospite preziosa presenze della lirica nei trattati d'amore del cinquecento e del primo seicento del duemiladodici poi Dante da una prospettiva friulana sulla fortuna della divina commedia in friuli dal risorgimento ad oggi questo è un omaggio anche alla tua regione credo ambiguità del petrarchismo un percorso fra trattati d'amore lettere tempi di rime e di recente le virtù del nobile precetti modelli e problemi nella letteratura del secondo cinquecento si muove quindi tra essenzialmente tra diciamo la lirica no l'esperienza lirica il petrarchismo con particolare attenzione al petrarchismo la trattatistica e il poema il poema cavallerisco oggi ci parlerà appunto del quindicesimo canto col quale chiuderemo questa prima mandata grazie per la presentazione mi sentite grazie per la presentazione e grazie a tutti gli organizzatori per queste belle giornate io appunto ho questo compito di concludere anche queste giornate molto belle molto intense con il cantare quindicesimo beh come premessa faccio ma lo vedrete anche un po' insomma dall'analisi escludo che l'Orlando Laurenziano derivi dal Morgante quindi mi sono concentrato di conseguenza soprattutto su quegli elementi di scarto no del del Morgante rispetto all'Orlando Laurenziano con una particolare attenzione ai fenomeni di intertestualità che abbiamo visto anche già nei cantari precedenti insomma possono dare materia di riflessione allora comincerei innanzitutto comincerei innanzitutto insomma per fissare un po' le idee con un riassunto del cantare avvalendomi appunto del riassunto fornito dalla Geno cosa troviamo in questo cantare innanzitutto l'invocazione naturalmente prima ottava poi Rinaldo giunto in Persia manda Ricciardetto a sfidare la Mostante che abbiamo già trovato no e quest'ultimo grazie anche appunto all'intervento di Chiariella fa combattere contro di lui contro Rinaldo Orlando in seguito il gigante Corante dopo aver battuto Chiariella e fatto prigioniero il fratello di lei Copardo viene ucciso da Orlando Copardo e Chiariella liberato Orlando consegnano ai paladini una porta della città e nella mischia notturna viene ucciso la Mostante entra in scena però anche il soldano il soldano ritornato verso la Persia manda chiedere a Rinaldo la consegna della città ma Rinaldo uccide il messo Antea figlia del soldano vuole andare messaggera ai paladini e questo fornisce lo spunto per una lunga descrizione della sua bellezza e anche della perfezione del cavallo che è un altro motivo che abbiamo anche già trovato ieri dato questo quadro degli episodi bisogna dire che Cantare Quindicesimo ha richiamato abbastanza attenzione da parte della critica soprattutto per due episodi innanzitutto per quello del duello no? quello ricordato al secondo punto il duello ricordo in particolare un articolo specifico proprio diremo Cesarani un'analisi molto insomma analitica ma anche molto attenta molto condivisibile di come viene condotto questo duello e si trovano anche varie osservazioni sparse di De Robertis nel suo poderoso volume e l'altro ovviamente è l'episodio della descripzione di Antea della sua bellezza e poi anche di quella del cavallo da parte di Paolo Orvieto insomma in un celebre capitolo del suo pulci medievale riguardo alla quindi vi partirei insomma l'attenzione anche proprio in dialogo anche con questa precedente bibliografia critica devo dire che cioè appunto riepilogando insomma quello che è emerso nel corso dei decenni riguardo al duello e anche agli episodi con termini possiamo dire quelli adiacenti della prima parte anche grazie al confronto con l'Orlando Laurenziano sono emerse alcune interessanti caratteristiche ben innanzitutto quello che è stato notato sia da Cesarani ma anche da De Robertis soprattutto Cesarani comunque l'elemento del dinamismo riguardo alla rappresentazione del duello i movimenti più rapidi ed efficaci che portano anche una vivacità di rappresentazione da parte di pulci e questo viene ottenuto attraverso varie sapienti tecniche spesso anche tramite dislocazioni rispetto al dettato dell'Orlando Laurenziano quindi in maniera molto accorta magari qualcosa che nell'Orlando Laurenziano viene messo prima viene messo invece dopo in maniera anche da compattare insomma il punto di vista certe scene insomma è qualcosa che è stato fatto insomma molto a ragionveduta comunque da un punto di vista globale si notano spesso effetti di crescendo accelerativo ed intensivo un secondo punto interessante che è emerso è proprio quel gioco delle prospettive tramite anche il ricorso a perché vengono definiti personaggi funzione quindi non indagati tanto da un punto di vista psicologico ma proprio per la funzione che possono avere in questo caso proprio la loro prospettiva dal punto di vista anche per i personaggi femminili si ricordava Luciana poi Chiariella insomma è interessante come Pulci anche appunto a differenza dell'Orlando Laurenziana insomma con tecnica a volte insomma definita anche cinematografica insomma sposta il punto di vista sul duello tramite gli occhi con partecipi di Chiariella di Luciana su come sta evolvendo il duello oppure quello che veniva ricordato anche il primo giorno il gigante fermo come un pilastro quindi insomma anche questa regia è molto accorta quindi lo sbarro degli spettatori e l'effetto è stato notato è quello di allargare oltre che rendere più rapida tutta la scena un altro macroelemento possiamo dire è stato invece l'attenzione alle scelte linguistiche quindi il ricorso questo c'è soprattutto in De Robertis devo dire ricorso magari alle espressioni vivaci popolari colloquiali naturalmente al registro comico ma anche con attenzione alla sintassi e soprattutto all'uso del discorso diretto che appunto è funzionale anche a questa vivacità magari maggiore anche con certe botte risposta con la mostante e che fanno risaltare anche sempre l'ironia anche con attenzione alla voce del narratore quindi questi sono degli aspetti che sono stati già direi sapientemente notati quindi non ho molto da aggiungere su quello vorrei concentrare l'attenzione soprattutto su un aspetto peculiare insomma specifico anche se è già tornato anche nelle relazioni precedenti in qualche punto quello dell'intertestualità in particolare per i riferimenti biblici perché Paolo Orvieto propone in vari punti sì prima di cominciare il duello ma anche poi in alcune ottave successive insomma dei riferimenti biblici e li motiva appunto dando un valore particolare alla figura di Chiariella cioè dice che Chiariella indossa la veste appena indossa la veste di salvatrice di Orlandro ecco che il registro si fa immediatamente dice Orvieto scritturale con tipica tendenza all'allegoresi biblica e io vorrei un po' discutere per vedere anche poi passo per passo insomma cosa possiamo dire appunto sulla filiazione biblica o meno in maniera preponderante o meno vorrei un po' discuterli per poi trarre magari qualche conclusione a questo punto di vista quindi vi ho riportato anche poi nella slide le ottave 15-16 in cui Chiariella perché Chiariella abbiamo già parlato del suo amore corrisposto con Orlando insomma dopo questo invito del messo alla mostante appunto misurarsi in duello sappiamo che la mostante come ricordavo prima anche poi tramite il consiglio di Chiariella si rivolge a Orlando perché combatte contro Rinaldo ovviamente Rinaldo non riconoscerà Orlando insomma sarà un duello celato da questo punto di vista e Chiariella va da Orlando che è stato fatto prigione appunto per appunto chiedergli di combattere per lei in antitudine insomma il segno del suo amore poi c'è ovviamente poi anche la promessa della liberazione che viene ventilata insomma in qualche maniera però Orlando insomma è un po' preso dallo sconforto insomma minaccia di uccidersi e Chiariella quindi a questa risposta vedete insomma dice ah disse Chiariella è questo quello che io ti ho promesso mille volte mille tu mi hai passato il cor con un coltello e Orvieto cosa ravvisa insomma intertestualità di tipo biblico io vi leggo direttamente della traduzione per alleggerire comunque rimanda a Luca 2.35 quando Simeone dice a Maria e anche a te una spada trafiggerà l'anima perché siano svelati i pensieri di molti cuori devo dire che si può starci come cosa però noterei comunque che per esempio in Dante ci sono questi versi fanno riferimento a Guido di Monfort che uccide Enrico III d'Inghilterra in cui si dice dicendo colei si riferimento al coltello la spada colei fesse in grembo a Dio lo cor qui troviamo cor anziché anima che in su Tamisio il Tamisio ancora si cola e poi se guardiamo anche i commenti danteschi troviamo sempre riferimento esplicito al coltello proprio per esempio appunto anche Boccaccio fendette cioè perse violentemente col coltello e in tutti i commentatori antichi cosa troviamo troviamo riferimento all'iscrizione sul monumento funebre della vittima Enrico di Cornovaglia che recitava ve l'ho riportato in corsivo sotto Cor Gladio Scissum Do Consanguineos Sum quindi dono il cuore trafitto dalla spada a colui cui sono consanguineo cioè al cugino re Edoardo primo è sostanzialmente una richiesta di vendetta quindi io ricorderei anche questo proprio anche per il riferimento al coltello che viene sempre ricordato poi il coltello che trafigge il cuore per l'altro appunto vi facevo vedere dalla slide precedente l'ho evidenziato in giallo prima che molti dissasconda il sole in questo caso Orvieto rimanda all'ecclesiaste prima che si oscuri tenebrescat il sole la luce la luna e le stelle e ritornino le nubi dopo la pioggia devo dire che questo non mi convince molto come rinvio cioè a parte che l'immagine del sole che si asconde è abbastanza topica insomma se vogliamo fra i riferimenti quelli che erano anche più vulgati per pulci se vogliamo ottenere anche la formula del prima che antequam nel basso da bibbia possiamo ricordare anche il purgatorio prima che il poco sole ma i sannidi che già il sannidi è più vicino direi più dello tenebrarsi del tenebrescat oppure comunque vediamo anche dai passi poi del canzoniere è topica l'immagine del sole che si nasconde no e i naviganti in qualche chiusa valle gettano le membra poi che il sole sasconde sul duro legno oppure naturalmente questo è importante perché l'ha mostrato anche Cristina Cabani insomma il petrarca pentenziale una canzone particolarmente importante no per Pulci quindi qua troviamo la canzone della Vergine Vergine bella al sommo sole piacesti sì che in te sua luce ascose l'ascondere della luce quindi c'è comunque più avanti invece all'ottava 43 abbiamo sì è stato il duello però insomma c'è il gigante appunto corante che corante che interver che imperversa e quindi chiariella chiede aiuto Orlando in questo caso abbiamo a te ricorro a te ricorro come mio refugio che non mi lasci in questi casi estremi devo dire che in questo caso sì secondo me predominante ricordo biblico come come lo trova appunto Orvieto lui ricorda ai salmi tu sei il mio rifugio mi preservi dal pericolo mi circondi di esultanza per la salvezza oppure ancora Dio è per noi rifugio e forza aiuto sempre vicino nelle angosce direi che sì sono più al ricordo più vicino rispetto io ho trovato per esempio l'unico si potrebbe ricordare forse fra appunto Dante Petrarca potrebbe essere quel passo celeberimo lo primo tuo rifugio e il primo ostello sarà la cortesia del gran lombardo però direi che più di carattere biblico l'altro passo invece in cui secondo Orvieto si assiepano insomma questi riferimenti biblici sono poi fra le ottave 67 69 e lui Orvieto cosa dice quando crediamo di aver definito la figura di Orlando come una sorta di serbatoio di formule liriche perché vedremo che in effetti le formule liriche qua ce ne sono la bizzeffe e quando quindi reputiamo possibile archiviarla insieme a quella di Chiariella subentra il sovrassenso allegorico abbinato alla figura di Chiariella appunto a cui parlava già prima che cava Orlando dall'inferno quindi Chiariella come personaggio salvatore e non solo stereotipo lirico e contestualizziamo un attimo qua dove ci troviamo ci troviamo con Chiariella che insomma offre il tradimento di suo padre no già quindi l'offerta poi di lasciare insomma che i cristiani entrino entrino per una porta della città condannando così qui quindi poi alla morte insomma suo padre insomma di concerto con suo fratello insomma Chiariella escogita questa soluzione e quindi Orlando insomma è molto grato verso di lei come vediamo appunto nelle due ottave a questo proposito Orvieto cosa ricorda ricorda la prima che sottolineato in giallo no già appunto nel discorso ancora di Chiariella dice a ciò che del mio amor tu vegga il frutto che io non ti pasca più di foglie e fiori e che tu esca ormai di carcer fuori e Orvieto ricorda Matteo 17 20 anche se in questo caso non ho ben capito per quale riferimento cioè questa ratta di demoni non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno forse un riferimento alla prigione non so non sono passato lì oppure più evidente riferimento al cantico dei cantici di buon mattino andremo alle vigne vedremo se mette gemme la vite se sbocciano i fiori se fioriscono i milograni la ti darò le mie carezze e Puccini nel suo commento osserva il tono della lirica cortese in questo passo a me devo dire veniva in mente soprattutto di primo a chito quel passo del paradiso che vi ho riportato quando Carlo Martello si si rivolge a Dante con queste parole assai mamasti e avesti benonde che se io fossi giustato io ti mostrava di mio amor più oltre che le fronde quindi anche il frutto secondo me è questo quello più vicino questo punto oppure c'è anche è vero frutto verrà dopo il fiore no in paradiso 27 devo dire da questo oppure subito dopo beh no c'è il riferimento anche all'angiolella che Orvieto dice un logo comune della lirica e ricorda le rime di Dante Petrarca le rime di Boccaccia anche i Cantari la stella e la calamita anche in questo caso Orvieto parla di luogo comune della lirica ricordando Pier della Vigna Chiaro Davanzati Cavalcanti Petrarca insomma così più interessante direi è il passo in cui Orlando ormai veniamo alla risposta di Orlando io ti dono le chiavi in sentiterno della mia vita e ti ento il cuore e l'alma e secondo Orvieto propone un riferimento beh un celebre passo nel Vangelo secondo Matteo in cui appunto Gesù Cristo affida a Pietro a San Pietro le chiavi della chiesa vabbè non sto a leggere è un passo molto molto noto però secondo me da questo punto di vista insomma è molto più forte insomma riferimento dantesco anche io sono un passo molto celebre naturalmente Pier delle Vigne io sono colui che teniamo le chiavi del cor di Federico e che le volsi serrando e di Serrando si soavi se pensiamo poi anche che già in Morgante 6 ve l'ho riportato su in alto abbiamo anche che del suo corte ne ha le chiavi ancora quindi proporrei in questa direzione poi all'ottava 69 cosa troviamo troviamo tu tipo religioso l'ulivo simbolo di pace la palma simbolo di vittoria e al tempo stesso come è noto comunque anche Orvieto un topos lirico con insomma autorizzazioni amori cortesi amorose e ricorderei che comunque anche nel canzoniere insomma ci sono Laura troviamo insomma anche associati poi la palma e l'oliva vedete no non Lauro o palma ma tranquilla oliva pietà mi manda oppure ancora un ramoschel di palma e un di lauro trae del suo bel seno e poi palma e vittoria e io giovane ancora vissi il mondo e me stessa e poi c'è quel passo che appunto ricordavamo già prima che è interessante appunto per mi cavi dallo inferno no orlando che dice che Chiari è lo cava dall'inferno alla fine è soprattutto questo no quello cui viene affidato questo insomma riferimento biblico beh sì naturalmente poi c'è anche l'elemento dell'inferno paradiso come topos lirico comunque Orvieto ricorda anche i salmi signore mi hai fatto risalire dagli inferi mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba però direi che comunque anche ricordo dantesco che viene adotto da Puccini anche nel commento no Cristo nel limbo abbiamo visto anche quanto è importante cioè lo ricordavamo anche con Alessandro Polcri nel cantare secondo riferimento al limbo è importante cioè quindi perno quarto sicci mai alcuno trasseci l'ombra del parente mi chiedo anche se magari però questa è una suggestione non ci possa essere anche una sorta di rovesciamento del mito di Orfeo ed Euridice quindi Orlando sta parlando Orlando no quindi Chiari Ella come l'anti Orfeo cioè con lei che riesce a liberare dall'inferno considerando che anche poi sempre nel cantare 2 abbiamo anche un riferimento poi a Euridice insomma volevo proporlo come cosa e poi vabbè e la tempesta mia converti in calma vabbè in questo caso Tappos Lirico viene ricordato da Orvieto Luca Luca 8 24 sì accostatisi a lui cioè a Cristo lo svegliarono dicendo maestro maestro siamo perduti e lui destato si sgridò il vento e i flutti minacciosi e si cessarono e si fece bonaccio cioè vengono calmate le acque ricorderei vabbè sì un topo slirico ricorderei per esempio cioè in Petrarca naturalmente è un po' comunissimo no anche questo elemento della tempesta dell'acquettarsi ho portato a questo esempio per esempio dal canzoniere quell'aura gentile la quale era possente cantando da quettarli sdegnelire di serenarla tempestosamente e sgombrar da ogni nebbia oscura e vile quindi concludendo questa parte questa analisi intertestuale devo dire che secondo me c'è più Dante di quanto ravvisato da Orvieto e forse l'impronta biblica non è così forte cioè ci sono degli elementi che possono andare in quella direzione però non accentuerei troppo un altro aspetto che ha interessato insomma i critici fa fulcro possiamo dire in questa ottava che ha interessato molto anche queste ripetizioni anche in sedi di rima c'è il motivo dell'uno e l'altro per il duello fra Rinaldo e Orlando l'uno e l'altro li sono evidenti in giallo e poi vedete in sedi di rima gli infiammati come è stato spiegato questa attenzione a ripetizioni anche poi le rime equivoche insomma hanno attratto l'attenzione sia Cesarani sia De Robertis Orvieto anche Puccini poi nel commento e Orvieto dà anche un valore molto forte a questo lo collega più in generale alle duplicazioni che ci sono molto nel cantare anche più in generale nel Morgante dice che il motivo topico dell'uno e l'altro è il vero e proprio nucleo unificatore e generazionale dell'intero cantare quindicesimo quindi sì naturalmente è funzionale questo motivo della ripetizione anche a evidenziare questo livello di uguaglianza fra i due fra Rinaldo e Orlando devo dire che questo motivo si ramifica quello che mi aveva interessato di più anche nei riferimenti che appunto troviamo in Morgante non nel Lorando Laurenziano poi con questi riferimenti storici epico storici insomma se direi insomma il paragone fra Orlando e Rinaldo con Annibale e Marcello insomma non colpisce più di tanto insomma con le guerre puniche forse almeno una piccola notazione su quello con Ettore Achille e si vedea solpolvere faville non credo che a vedere fossi più degno alla città famosa cioè Troia Ettore e Achille che mi ha dato un po' da pensare perché se pensiamo appunto come qua si fa riferimento naturalmente al duello finale fra Ettore e Achille là è il momento in cui diciamo il pari valore non è che si veda molto anzi addirittura quello che ha colpito molto è che insomma Ettore faccia una fine per certi versi così indecorosa a un certo punto si mette a scappare addirittura c'è questa furia incredibile di Achille quindi sulla base dell'Eliade non saremo portati tanto nella direzione del vederlo come un simbolo di uguaglianza però a questo punto direi secondo me a maggior ragione occorre ricordare anche tutta poi la tradizione romanzesca di Ettore quindi ricordare naturalmente come fosse cioè ci può avere tradizione che poi fosse stato il fellone Achille insomma comportarsi mentre Ettore era il vero modello di eroismo sappiamo benissimo naturalmente che c'è poi tutta la tradizione c'è tutta la tradizione anche dei nuovi prodi fra cui appunto c'è Achille sappiamo che scusate Ettore sappiamo che Ettore è poi anche progenitore di Ruggero e quindi sì anche se possiamo ricordare anche Aristotele che all'inizio dell'Etica a settimo libro pone proprio Ettore come esempio di virtù eroica oppure nell'inferno quarto per gli spiriti magni però direi che c'è soprattutto magari un ricordo di questa tradizione appunto di valorizzazione di Ettore da un punto di vista appunto della tradizione dei romanzi un po' come passatemi il parallelo per quello che è stato notato per l'innamoramento di Orlando in cui anche per i personaggi classici si è notato che insomma anche in quei casi comunque agisce fortemente magari poi la tradizione medievale cavalleresca poi di come l'avevano dipinta beh ricorderai poi anche nella Spagna che c'è questo passo in cui appunto Achille ed Ettore vengono messi insomma sul stesso piano se ora mi sei leale io sono più franco che non fu mai Achille il forte e torre quindi anche questo poteva essere ricordato oppure mi sembrava interessante anche appunto Morgante 24 dopo in cui Achille e Ettore vengono ancora usati come simbolo di uguaglianza di pari valore anche se appunto in questo caso c'è una battaglia con una mattone no? Trasson le spade dettonsi ben mille colpi insularme fermi rabbil prove e non si vide mai se non faville che volavano talvolta insino a Giove ma la battaglia è tra il Troiano e Achille che l'uno e l'altro d'Artson non si muove sì che laudarsi potea questa mazza né quello che molto è pareggiato il loro duello che fra l'altro il motivo del è pareggiato c'è anche nel cantare il quindicesimo vabbè a parte questa piccola annotazione volevo attirare l'attenzione anche su questo passo perché ha dato da discutere è stato usato da chi insomma sostiene che invece appunto vada invertito il rapporto perché è sembrato strano che insomma che nell'Orlando Laurenziano si parla di Soldan Palladino e quindi si è detto c'è una corruzione un errore poi da Orlando Palladino devo dire che la cosa non mi convince sarei più del parere per esempio Roberto Galbiati ha scritto che nei testi cavallereschi appunto il paladino è appunto sì appunto il paladino possiede spesso il significato generico di guerrieri ed attribuito anche a cavalieri pagani lui fa dei rinvii a Boiardo quindi secondo me non pone problemi ha provato a guardare anche il battaglia e sì a parte che appunto c'è proprio la sezione specifica su come guerriero cavaliere prode generoso e può essere riferito anche appunto a regnanti viene riportato nel battaglia un passo riferito a Carlo Magno nella Spagna uno a quattro di Pipino nacque il paladino re Carlo Mano come il libro Noma vengo all'ultima insomma episodio insomma su cui volevo soffermarmi che appunto anche possiamo dire quello forse più celebre insieme anche al duello quello della descripzione di Antea anche su questo insomma ci sono stati validi apporti di sede critica per esempio Orvieto in un celebre capitolo poi del suo libro ha mostrato bene come questa costruzione del ritratto sia nutrita insomma di questo riferimento ai topoi della tradizione lui fa vedere come sia anche poi nella descrizione del cavallo se ricordava anche ieri con James ricordo per esempio anche che anche lì ha focalizzato attenzione soprattutto sulle iperboli nel ritratto di Antea anche nel loro rapporto con la tradizione canterina Cristina Cabani ha fatto emergere la vena comico-parodica fortemente evidente anche con quei sei paradisi da fare spalancarsi ai paradisi nell'ultima ottava che vi ho riportato Stefano Carrai ha rinvenuto insomma potremmo dire un sovrasenso in senso cristiano insomma di Antea come anticristo e Raina poi ripreso da Chiappelli ha insomma concentrato l'attenzione sull'influenza di questo ritratto di Antea sull'Alcina di Ariosto innanzitutto per le parti nascoste di Antea la ottava 101 e per il motivo del riso paradiso dell'ottava 102 del Morgante notando da parte di Chiappelli che comunque Ariosto è più nobile e sostenuto per parte mia cosa vorrei fare appunto vorrei invece focalizzarmi proporre o meglio proporre qualche riflessione aggiuntiva sul perché Pulci introduca proprio quei termini di paragone con donne celebri che appunto è una differenza rispetto a Lorenzo a Lorenziano per lodare la bellezza delle parti del corpo di Antea l'Orlando a Lorenziano la parte della descrizione delle bellezze è fortemente ridotta qua invece viene molto sviluppata anche perché Orvieto nota che alcune di queste donne sono piuttosto inusuali come termini di paragone nelle descrizioni delle bellezze femminili in particolare concedere attenzione su Proserpina De Iopea e poi Rachele in fondo e secondo me merita qualche supplemento di riflessione questa questione beh innanzitutto lo viene iniziato in giallo Danne che è Daphne anche se qualcuno molto Debo Pave pensava che fosse Danae ma insomma è Daphne questa e in questo caso viene ricordata per i suoi crindoro penso che ci sia una forte memoria anche Petro Orchesca nel senso che appunto Laura ovviamente è avvicinata a Daphne e sappiamo che appunto i crini di Laura i capei d'oro Laura Sparsi no? Naturalmente per quelli successivi vedete sempre nella prima ottava troviamo Venere Giunon Palla in questo caso secondo me c'è soprattutto un riferimento generico al fatto che queste sono le idee insomma tipicamente associate alla bellezza anche grazie al giudizio di Paride naturalmente no? Quindi Penere nel volto insomma non ci fa molto non ci pone molti problemi magari è più insomma particolare insomma ho provato un po' a approfondire l'indagine questo parlare di Giunone in riferimento al naso no? Del naso aveva Giunone l'esemplotolto ho provato un po' a vedere devo dire che non ho trovato insomma cioè appunto Orvieto diceva Giunone non è che sia famosa per il suo naso in particolare ho provato un po' a vedere anche con le varie letture anche dei testi classici in effetti non è che si trovi granché da questo punto di vista anche se è un singolare direi però appunto non penso che ribalti comunque il giudizio in Firenzuola nel dialogo delle bellezze delle donne che dedica molta attenzione poi anche alla descrizione del naso troviamo proprio Giunone dice ma torniamo al naso perché ne ha già parlato prima la misura del quale avendovi mostro all'altra giornata non accade or replicare ma chi se la fosse scordata o non vi fosse stato guardi quello di Verdespina perché abbiamo vari personaggi femminili poi nel dialogo che se ne ricorderà perciò che è là come se fosse una nuova Giunone là in tutta perfezione sì penserei non so vorrei anche avere il vostro feedback su questo penso che sia piuttosto casuale questa cosa vedrei sempre come Giunone anche appunto il fatto che c'è anche Venere Palla prima insomma come riferimento anche al giudizio di Pali però mi sembrava interessante anche insomma notare anche anche perché appunto Firenzola è uno di quelli più attenti poi anche nei dialoghi sulle bellezze così e poi anche l'elemento del naso è interessante anche poi si diceva il riferimento a Proserpina no questo potrebbe anche fare un po' da approfondire riferimento perché Andrea Torre prima ne parlava anche per il padiglione notava quanto fosse singolare anche questa introduzione di Proserpina in quel passo e lo troviamo anche qui in questo caso Orvieto cosa dice non se lo cioè lo spiega proprio come elemento insomma di innovazione insomma di originalità da parte di di Pulci dice che appunto Proserpina non era per niente famosa per la sua vita stretta no cintura si fa riferimento ovviamente alla parte del corpo dove dove ci sta la cintura io ho provato a prendere le metamorfose e devo dire che forse qualche stimolo questa direzione ci poteva essere cioè ve lo leggo in traduzione vi ho sottolineato Donam cioè cintura in giallo però cosa troviamo abbiamo ovviamente Proserpina che è stata rapita da Plutone però appunto è rimasto un segnale la cintura appunto ciò malgrado le fornì un indizio inequivocabile chi ha fornito l'indizio Ciane a Cerere perché Ciane è stata trasformata nel frattempo insomma per chi si possa rivelare così mostrandole a pelo d'acqua una cintura a lei ben nota che in quel punto era per caso caduta Proserpina tra i flutti sacri e si potrebbe anche ricordare meno importante magari che per esempio anche Plutone quando l'aveva vista mentre raccoglieva fiori in grembo quindi già un'attenzione non sul volto però insomma verso quelle parti del corpo poi c'è anche Deiopea anche questo ha tratto l'attenzione di Orvieto insomma collegava cioè lo notava come una una cosa appunto non 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 naturalmente qua c'è il ricordo dell'Eneide no forma pulcherrima Deiopea perché appunto Giunone la offre a Eolo insomma come sposa è la più bella delle sue ninfe quindi la offre a Eolo perché gli faccia insomma il suo favore ai danni del povero Enea e abbiamo anche ricordiamo anche il vocabolista già nei insomma negli articoli sui riferimenti danteschi anche di inizio novecento veniva ricordata insomma nel vocabolista c'è viene glossato una ninfa di Giunone molto bella da questo punto di vista anche in questo caso secondo me Deiopea viene presa proprio come riferimento generico di somma bellezza tramite quella forma pulcherrima e poi interessante che sempre nel cantare quattordicesimo si allude proprio a quel passo delle Neide ci sono Giunone le sue ninfe Deole magari potrebbe essere interessante per il fatto che magari uno si aspetta visto che dice pareva nei fianchi da portare il turcasso e le quadrelle magari uno si aspetta una ninfa del corteggio di Diana più che altro ma vabbè non viene ricordata Diana è facilmente immaginabile anche perché viene ricordata poco prima quindi forse anche per discostarsi da questo questo tipo però appunto abbiamo una ninfa di Giunone non di Diana nonostante questo riferimento ai fianchi da portare il turcasso e le quadrelle e infine abbiamo Rachele quindi riferimento biblico e anche in questo caso Orvieto non se lo spiega dice Orvieto è inusitata Rachele nella funzione paradigmatica di gentilezza nei passi e l'abito e anche in questo caso sono andato a prendermi il passo biblico della Genesi e anche in questo caso secondo me qualche elemento di stimolo in questa direzione c'era direi perché vabbè abbiamo Giacobbe no Aduk vabbè finché parlavano e ecco Rachele che veniva con le pecore no di suo padre di Labano infatti passeva essa stessa il gregge e cosa viene detto di quindi abbiamo questo primo appunto questo primo episodio di Giacobbe che vede Rachele che incede no veniva con le pecore quindi abbiamo un'attenzione ai passi volendo al modo di camminare può essere in quella direzione e poi poco dopo cosa si dice la descrizione di Rachele è questa decora face et venusto aspectus si ho citato dalla vulgata quindi bella di forme e di venusto aspetto e se noi pensiamo che appunto l'abito è riferito all'aspetto al portamento insomma secondo me ci sono degli agganci in questa direzione per concludere definitivamente volevo solo fare una piccola notazione riguardo al livello dei contenuti perché perché pensando anche alla bibliografia anche di molti decenni fa penso per esempio anche a Luigi Russo se ne parlava anche ieri sulla dissoluzione del mondo cavaleresco poi ripreso anche da Angelo Gianni in Pulci 1 e 2 Cantare Quindicesima è uno di quelli che ha scandalizzato di più perché lo sai visto come proprio un simbolo dell'invilimento dei paladini cito la dissoluzione popolana e borghese dell'epopea carolingia un ridicolo da cui non si salva nessuna istituzione perché perché se ci pensiamo in effetti cosa succede in questo Cantare cioè abbiamo una città città di Persi che viene presa col tradimento sostanzialmente e col bene placito di Orlando di Orlando stesso insomma abbiamo Chiarriella che offre le chiavi della città che possano entrare insomma nottetempo a tradimento poi cosa abbiamo il messo impiccato che veniva stato ricordato beh anche da Alessandro Pol che poi per il Cantare Secondo oppure anche nelle note di commento di Davide Puccini nota che in effetti messi nel Morganti non è che facciano una bella fine solitamente insomma abbiamo vari esempi che vengono impiccati e quant'altro la mostante che viene trattato come un traditore e poi abbiamo questo motivo dell'ambasciatore gettato dalla finestra contro l'Ujus Gentium e anche questo insomma abbiamo ricordato anche prima insomma l'elemento dell'arroganza dell'ambasciatore con Andrea Mudares anche ieri per il Cantare Decimo insomma l'arroganza dell'ambasciatore è sempre un elemento che poi ritorna e in effetti a guardarlo proprio spassionatamente a questo punto di vista insomma risalta che insomma non è un comportamento molto cavalleresco a questo punto di vista pensiamo anche anche l'elemento del tradimento della città ma veniva in mente per esempio a quale differenza poi di trattamento abbiamo in un episodio che per alcuni versi simili pensiamo nelle metamorfosi a Scilla che offre le chiavi cioè offre a Minosse la modalità di entrare nella città e noi cosa abbiamo? Abbiamo il raccapriccio da parte di Minosse cioè il pieno raccapriccio per la figlia che tradisce il padre in quel caso invece qua è Orlando insomma abbiamo visto che manifestazioni d'amore regala a Chiariella diciamo che la direzione è molto diversa naturalmente insomma noi magari non reagiamo con i toni scandalizzati di Luigi Russo o ancora appunto poi di Gianni direi che questo cantare quindicesimo è una chiara manifestazione insomma del Morgante come opera di alto intrattenimento come un pubblico da divertire e quindi forse non è il caso di insistere troppo su questa contrapposizione fra paladini moralmente buoni e pagani cattivi insomma c'è il comico dietro d'altro ne siamo ancora nella fase della commedia non ancora della tragedia finale quindi mi ricollegherei all'osservazione anche ieri di Renzo Rabboni insomma qua secondo me agisce fortemente l'impronta canterina più che appunto è una ferocia non cavalleresca ma legata appunto all'ambito canterino a cui naturalmente Pulci si rifà però noterei e con questo concludo definitivamente che comunque anche dal confronto con l'ordano Lorenziano bisogna dire che il Pulci comunque si sforza di rendere più accentuata l'odiosità dei nemici puniti e così in qualche maniera giustificare la sua punizione per esempio se notate il Cantare anche dal confronto con l'ordano Lorenziano vedete che Pulci ci tiene a sottolineare la viltà della mostante quindi insomma in qualche maniera anche con la vicinità poi dei botta e risposta che insomma non vuole farci insomma compartecipare insomma a lui oppure per l'arroganza dell'ambasciatore mandato da Soldano viene messo in risalto da Antea stessa cioè è Antea che dice beh ma avete fatto male cioè tu Soldano ha fatto male a mandare un ambasciatore del genere che insomma è stato così arrogante verso Rinaldo quindi a un certo punto te lo potevi aspettare insomma che finiva così con una defenestrazione e quello che è così spero di aver dato degli spunti di riflessione se non altro per la discussione vi ringrazio per l'attenzione un commento per poter perché sei andato molto nel particolare per quanto riguarda la intertestualità dantesca che tu hai preferito diciamo in certi casi a quella per problematizzare i reclimenti però vorrei dire una cosa che forse quello invece è un settore che andrebbe indagato perché veramente massiccia la presenza scritturale di allusioni all'interno del morgante e tutto sommato lì Orvieto usava la quantità più che il singolo riferimento in alcuni casi come quello del cantico dei cantici siccome qui il fiore e il frutto è allusivo poi ecco mi sembra più opportuno quello che quello dantesco però ecco insisterei proprio su questo sulla continuità un'altra osservazione che mi veniva e chiederei a Luca in questo caso degli innocenti a me pareva di aver trovato questo gioco che nel morgante non è frequentissimo ma il gioco sulle medesime rime l'una e l'altro infiammati che nel driadeo mi sembra diventa ossessivo quasi in una delle opere della cerchia pulciana che alla fine verso la fine tutte le ottave sono fatte in questa maniera che è un gioco virtuosistico di forse neanche tanto interessante dal punto di vista semantico quanto proprio come gioco e mi ricordavo lì che era proprio apportato in maniera in maniera parossistica apriamo la discussione se mi consentite faccio subito io una precisazione perché ad Andrea Torre perché la volgo in forma di domanda perché ho insistito su questa cosa che tu suggerivi che era la possibilità di un confronto un minuto con le fonti perché nel canto venticinquesimo Pulci ritorna sul padiglione di Luciana e dice che se nel mio parlare avessi commesso errore voglio rivederlo e riscriverlo ed è molto interessante questa cosa del fatto lui che ritorna su se stesso sullo stesso tema e dice che si corregge allora se noi andiamo a vedere mentre nel primo padiglione le fonti sono soprattutto la cerba poi quelle indicate nel secondo invece si cambia completamente c'è Plinio e così via e io mi sono chiesta perché ci sia questa reinterpretazione con fonti diverse e ci vedo molto un gioco letterario ecco volevo precisare e la domanda che ti faccio è questa cioè come la interpreti te questa riscrittura di se stesso cioè sì ecco si iniziamo due 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 questioni uno discorso di rapporto col venticinquesimo sì è è riscrittura ma in realtà è anche integrazione perché non c'è una corrispondenza e c'è riscrittura cioè potremmo dire di correzione di metodo come dice lui no proprio ricorrendo a quello che è una letteratura specialistica autorizzata appunto Plinio rispetto a invece questo qui sicuramente sono d'accordo con te il ragionamento che che ho provato a fare io anche in realtà per provare a come dire ad integrare ecco il il lavoro fatto da Brangini da Milageno perché che sicuramente poi può essere integrato diventerebbe una lettura del solo padiglione di carattere lessicografico e quindi probabilmente si potrebbero invenire anche altre fonti oltre a altri bacini da cui ricorre per questo linguaggio specialistico mi chiedevo se a questo livello di di allusività che è un livello che potrebbe dire produce il testo nel momento in cui l'autore sceglie proprio quelle immagini lì alcune immagini non dico tutte perché poi il gioco e anche il senso di quel passaggio lì è dato proprio dall'accumulo e quindi dalla funzione anche iperbolica volendo anche con una dimensione anche se non proprio di comico però di di forzatura nel verbale dicevo se per alcuni casi invece possiamo rinvenire per quelle specifiche immagini una funzione anche narrativa interna al testo o esterna ad esso ecco quindi un altro un altro livello diciamo che non pertiene a livello di fonti la costituzione di quel corpus quanto piuttosto la risemantizzazione rifunzionalizzazione di quel corpus lì per altre funzioni espressive che possono ecco in quel senso appunto utilizzavo e quindi grazie no 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 mi ero espressa male no 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 mi veniva in mente a proposito intanto della relazione di Andrea e anche da quello che si diceva al termine della relazione sull'importanza del vedere il primo cantare termina con una exfrasi con una rappresentazione visiva ed è attraverso questa rappresentazione visiva che si ha un processo di conoscenza questa rappresentazione visiva è appunto l'episodio del padre di Orlando che uccide un gigante che assediava la badia quindi c'è un rapporto di riscrittura per immagini con la tradizione con gli antecedenti per cui il primo canto si apre con una riscrittura in parole si chiude con una riscrittura in immagini e allo stesso tempo è una riscrittura interna del poema perché è un po' quello che succede con le dovute variazioni Orlando che uccide due giganti anziché uno come il padre ma il terzo lo converte quindi supera in qualche modo questo e questo viene attraverso le immagini mi sembrava appunto così interessante sottolinearlo in questo discorso tanto appunto a integrazione ecco di quello che diceva Nicola è interessante anche notare proprio la ricorrenza dell'istituto dell'Ecrasi nella struttura e diciamo anche soprattutto lasciando parte soprattutto nei primi 25 e quindi quasi sulla soglia poi dell'effettivo passaggio di consegne tra una prima e seconda parte perché il quattordicesimo come infatti ricorda anche Ageno nel suo commento è posto al centro di fatto dei 23 canti da un punto di vista anche di numero di ottave e peraltro c'è proprio il passaggio del nella prima ottava in cui ci sono arrivato al mezzo del lavoro e curiosamente quindi l'istanza ectrastica l'abbiamo all'inizio diciamo del lavoro in mezzo al lavoro e poi sul 24 e il 25 chiaramente non sono la fine però si approssimo a quello che era il primo blocco di lavoro grazie prima di tutto per questi tre interventi che mi pare in parte convergano sul tema della visività perché in fondo anche la descrizione è un'evocazione molto visiva è un tema che mi pare particolarmente interessante per il Morgante che in genere è a differenza del Furioso ad esempio viene piuttosto tirato sul versante dell'oralità o della verbalità quindi è notevole che per l'appunto nel cuore del primo Morgante ci sia questa espansione efrastica così notevole avevo una domanda per Andrea intorno al padiglione di Luciana e prima di tutto al verbo con cui viene introdotta la sua descrizione che è questo spiega e spiega il padiglione o fa spiegare il padiglione che io ho sempre inteso nel senso di spiegare di spiegare di squadernare diciamo e non so se si debba intendere invece nel senso esegetico appunto di esplicazione è un dettaglio da cui però forse dipende anche lo statuto direi del pezzo lunghissimo che segue di cui ho sempre fatto un'esperienza un po' enigmatica diciamo è una sorta di enciclopedismo ai miei occhi di lettore moderno opaco non trasparente insomma che non e nel quale peraltro il modello dell'exfrasi si declina nella forma della lista che implica appunto una forse anche una visività un po' particolare e mi chiedo se non ci si possa accordare sull'idea di una visualità verbale in fondo le cose che si vedono sono le parole anche nella loro bizzarria nella loro singolarità fonetica sono parole da gustare attraverso la vista più ancora che parole che rimandano a delle cose che nessuno conosce appunto animali piante ecco non so se è una sintesi che ti sembra cioè una formula che ti sembra accettata sì 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 assolutamente anche perché anche proprio nelle anche nella di fatto nella riflessione teorica sull'ecfrasi c'è questa grande distinzione tra le ecfrasi di opere esistenti rispetto ai quali quindi come dire è possibile anche valutare la vicinanza e lo scarto che il suo descrittore fa la traduzione in parole di ciò che si può vedere o direttamente o di cui abbiamo effettivamente una rappresentazione visiva e quelle che sono invece ecfrasi fantastiche che a tutti gli effetti si riducono ad un'opera di verbalizzazione no? Per quello dicevo c'è anche questo continuo slittamento tra piano della descrizione e piano della narrazione no? perché di fatto sono immagini che si fanno che attraverso la descrizione si dinamizzano si rendono vive no? e questo chiaramente partecipa serve un po' iperbolicamente paradossalmente anche ad evidenziare il pregio di queste immagini no? sono così belle così perfette che sembrano vive perché questo è di fatto la reazione immediata ad ogni atto di ecfrastico e qui però sono rese vive che cosa? attraverso attraverso la parola e quindi rientra anche chiaramente il discorso del confronto tra potere tra codice verbale e codice visivo no? la parola che addirittura rende ancor più vive quello che può essere anche l'eloquenza intima delle immagini quindi sì da quel punto di vista direi che la tua formula è perfettamente accettabile così come anche il suggerimento sul discorso di spiegare no? più avanti si utilizza il termine così viene divisato invece che qui rimanda invece proprio all'idea dell'illustrazione cioè della spiegazione in quale ambiguità dello spiegare chiaramente si ha un'ambiguità tra l'apertura e l'attraversamento di questa di questa visione sì io ne approfitto non so se posso fare tre domande cioè una ciascuno o se le devo fare separatamente anche perché io all'una devo andare via non so se riuscirò a seguire fino in fondo i lavori però devo dire sì sono d'accordo con Matteo che i temi dell'oralità e della visività visualità di questo poema sono emersi in modi vari ma molto stimolanti da tutte e tre le relazioni e appunto tra parola e immagini una cosa che pensavo a proposito della questione del padiglione o di questi pezzi che effettivamente sono un cicloperismo un po' incomprensibile per un lettore moderno difficile da assaporare io ci ho sempre letto sarà anche per deformazione mia l'esito di una tradizione giullaresca di una tradizione che rimonta ai sirventesi come quello del maestro di tutte le arti di Ricciaria pugliese o le frottole come quella i sacchetti la lingua nuova e le altre o le stesse frottole di pulci che sono un'esibizione di un campionario di parole a prescindere poi da quanto queste parole siano comprensibili al pubblico è più l'abilità acrobatica di farle girare in aria che poi l'effettiva comprensibilità della significante no e a proposito ora io non voglio far quello che è sempre in disaccordo con Orvieto ma vedo che poi l'abbiamo un po' bersagliato a proposito del fatto che il padiglione la toppa per l'Orlando laurenziano il padiglione canterino abbia normalmente una varietà inferiore di parole che quindi il gusto del pubblico di piazza fosse più saturabile di quello dei lettori quindi era meglio andarci piano non so se Pulci abbia cambiato le cose o se forse comunque vanno messi in discussione so per certo che a inizio cinquecento incantati come quelli dell'altissimo che hanno strepitoso successo a Firenze a Venezia eccetera questo snocciolare parole incomprensibili per decine e decine diversi è uno dei suoi pezzi forti quindi evidentemente il pubblico godeva anche nell'essere ipnotizzato da questo continuo vorticale di parole alcune veramente incomprensibili perché a volte entrano in tecnicismi anatomici o potenzia i tecnicismi nautici della tempesta di mare e credo penso che veramente il 90% del pubblico non capisse niente e ciò nonostante erano pezzi di repertorio apprezzatissimi quindi forse anche sui gusti del pubblico di piazza dobbiamo farci delle idee a partire da testi non necessariamente coevi a pulci o forse pulci ha cambiato le cose cioè ha creato un gusto ha educato però dico ripartendo dall'idea del giullare che già giocava con queste cose dal 200 forse è un gusto che c'era già ecco che pulci potenzia ma sulla piazza forse funzionava ecco l'altra cosa invece ribaltando la questione sulla visualità mi chiedevo se le questioni iconografiche in fondo di scegliere le divinità a proposito dell'intervento di Maico Favaro sul naso di Giunone i passi di Rachele e così via non valga la pena andare a guardare un po' di riscontri iconografici cioè a cominciare dai capelli di Daphne che in tutta l'iconografia soprattutto quella pittorica sono anche d'oro no? cioè che l'immagine che automaticamente un pulci lega a certi personaggi non possa dipendere anche dalle immagini della pittura pagana a coeva o nel caso di Rachele anche delle pitture nelle chiese ecco non so se il lavoro è stato tentato o no sì ecco perché arrivavo poi alla domanda perché le domande me le ero tenute in fondo andando a ritroso per Nicola Catelli però se vuoi intervenire intanto ti scegli pensavo anche soltanto questo perché poi ho perduto sì la visione di Spinellone anche io mi sono sempre chiesta se si possa oppure no agganciare magari a qualche a qualche opera a coeva o largamente coeva nelle chiese no io pensavo anche sì questo è sicuro però mi chiedevo anche questo è certo sì sì ma anche sì era soltanto un'idea un supplemento d'indagine arrivo subito la domanda anche dimenticavo una cosa a proposito del naso di Giunone immagino si possa anche chiederci se non sia Firenzuola a prendere Pulci come fonte no che quel brano della descrizione non sia diventato poi paradigmatico per uno come Firenzuola che Pulci lo conosceva senz'altro bene però insomma è un modo forse per sfuggire al problema è sì si va cercando in un altro autore Petrarca non ci dà certo e no appunto invece per le domande che lo preannunciavo sarebbero dieci a Nicola Catelli ne volevo fare solo una perché appunto se no monopolizzo uno e mezzo ma per una questione per lanciare la cosa fiorentina prima di tacermi per sempre volendo ricordare che il 22 23 settembre ci sarà la seconda puntata di queste tre dedicate alle letture del Morgante e che io mi dovrò occupare del 19 mi sto scervellando su una questione che mi si è imposta all'attenzione che è la sensazione che Pulci lavori quando lavora di invenzione a volte almeno ma nel 19 lo fa e intorno al 19 lo fa molto col gusto di far succedere dei modi di dire di appunto morire dall'erisa è l'esempio più esplosivo potremmo dire però c'è anche il modo di dire del granchiolino e la balena e ce ne sono diversi altri che in quei cantari punteggiano l'invenzio in qualche modo sembra quasi ora voglio spoilerare il mio intervento però sembra che lavori con quest'idea di questo modo di dire lo faccio accadere l'iperbole diventa reale anche in questo senso allora mi veniva il dubbio che anche il caso del valletto cioè insomma nell'interpretazione della questione del valletto che si inerbica sull'albero non ci possa essere il gusto a motivare la creazione di questo episodio di far succedere il modo di dire di stare sul cerro o stare sul noce che era ce lo testimonia il varchi ma insomma sono modi di dire che punteggiano la letteratura quattro-cinquecentesca fiorentina era un'espressione idiomatica per dire evitare il pericolo nascondersi imboscarsi e infatti il valletto viene un po' cioè fa una cosa vergognosa lì si dice stare sul cerro in quel caso è attovile e allora mi chiedevo se Pulci davvero anche in quei casi lì non si diverta a far succedere questo la domanda invece domanda era alla fine per chiudere sull'oralità mi sembra di aver capito che tu legga quell'insino al fin dell'ottava proemiale in un senso di insino al fine del poema di un arco narrativo molto ampio per il quale si chiede la quotidiana manna che ci permetta di arrivare in fondo mi sembrava forse ho capito male che tu facessi un riferimento a un progetto narrativo globale totale che deve arrivare a una fine che nel caso però dei primi 23 cantari non sappiamo poi se fosse già quella di non ci sballe mi chiedevo dato quell'interessantissimo onesso di questo del proemio gemello con l'oralità con l'ascoltatore se non si possa leggere invece una chiave di insino al fine della seance di oggi di questo singolo cantare che io devo declamare fino in fondo o comunque scrivere fino all'ultima ottava del cantare però chiudo grazie andrei in ordine corretto però io non ho molto da aggiungere perché comunque mi sembra che era più una domanda rivolta a Orvieto cioè sì nel senso quello che si può notare da un confronto testuale tra quelle testimonianze canterine e il padiglione di Pulci chiaramente mostra quel tentativo di come dire non direi non di superare ma almeno di integrare nei suoi effetti il discorso come dire l'effetto anche fonico dell'accumulo di nomi e del con la strutturazione di immagini però questo qui lo si vede a livello testuale su quello che può essere poi la performatività ecco più efficace di un testo che procede soltanto come filatessa di una descrizione che procede soltanto come filatessa di nomi oppure di una descrizione più strutturata non saprei dirti diciamo mi affido più che altro alla tua perizia sulla materia canterino performativa ecco però sì condivido ecco quello che suggerivi sì si sente sì grazie Lucas naturalmente i tuoi spunti sono molto utili riguardo agli scontri iconografici per la descrizione sicuramente certo sono importanti a tenere conto nel caso specifico di Daphne devo dire io ho fatto riferimento a Petrarca solo per il fatto che ci sono molte idee quant'altro con capelli biondi cosa è che poteva soprattutto attrarre l'attenzione di Pulci un precedente come quello Petarchesco con l'associazione Daphne Laura magari poteva essere quell'elemento in più che magari distingueva insomma un po' dal riferimento topico sappiamo che appunto i capelli biondi sono un riferimento topico insomma per la bellezza femminile appunto se hanno i capelli neri insomma già è già diverso senza arrivare al Nigra Sum Sed Formosa il nero è già connotato in altra maniera e no e grazie anche per lo spunto riguardo al Naso di Giunone ci sta effettivamente che poi Firenzuola abbia semplicemente guardato al Morgante di Pulci assolutamente certo grazie grazie anche da parte mia per le domande e i suggerimenti sono senz'altro d'accordo sul principio di composizione pulciana di far succedere i proverbi di far succedere i modi di dire di farli inverare di farci irli in modo che diventino una storia e quindi si autoavverino in qualche modo per poi la storia che va a autorizzare il proverbio diventare una sorta di pseudo fonte da cui il proverbio può derivare con la sua versione naturalmente dei tempi che è tipicamente pulciana in quel caso a cui non prevedevo in realtà di fare riferimento mi è venuto in mente così riguardando un attimo l'immagine penso senz'altro ci sia questo aspetto e anche questa connotazione comica che deriva da questo riferimento mi sembra anche come spesso in Pulci che il comico non escluda la parte un po' più seria e quindi anche la riflessione sulla testimonianza sul vedere e dicevamo anche prima così come nel Leone nel Leone la parte comica ancora l'episodio del Leone del canto quarto la parte comica ancora più esplicita ecco mi sembra non escluda e anzi la bellezza del poema anche in questa commistione serio comica che si manifesta in più luoghi in più modalità mi sembra che non escludi non escluda l'interesse per la visualità per la testimonianza per la verità e quindi torniamo a uno degli elementi portanti dal punto di vista tematico del canto l'inganno e la verità e quindi grazie l'altra l'altra questione non avevo pensato a questo aspetto io sono andato abbastanza come dire dritto un po' a testa bassa sulla interpretazione di fino al fin della storia con la Jean Bimot a capo come narrazione complessiva come visione complessiva del poema qualunque fosse a quella altezza la visione complessiva del poema e non appunto alla come dire alla modalità orale alla fine della sessione performativa potrebbe essere un ottimo un ottimo spunto non avevo pensato a questo mi sembra che ecco un po' per ricostruire anche il mio il mio pensiero la mia interpretazione del passo sono andato dritto su questa interpretazione perché Pucci qui scomoda il tempo la vita la morte il mondo cieco Dante il carcere c'è un senso di necessità di pericolo che fa pensare a delle dimensioni ampie non fa pensare alla brevitas della della seduta ecco quindi forse per questo è stato questo il mio processo interpretativo no ma infatti e secondo e secondo me appunto andrebbe verificato meglio anche e lo farò poi per per gli atti magari in raffronto appunto le modalità canterine quindi grazie davvero per questo spunto cioè io non sono d'accordo con questo a canterina semplicemente è ripetuta più volte nel testo e poi a un certo punto parla di un mezzo allora se c'è il mezzo no il fine è rispetto a quel mezzo lì cioè quindi si ha più la sensazione che invece lui in quegli interventi voglia far percepire la completezza l'unitarietà dell'opera io la leggerei piuttosto così poi non so anche anche io pensavo e poi per una no e beh questo però nel cantare no questo qui però ha ragione lui perché nel singolo cantare il canterino dice la consentimi di arrivare alla fine del cantare qui mi sembra più che tenda invece a una concezione più di poema insomma per il mezzo anche avevo pensato a questo con l'aggiunta che nel primo potrebbe essere anche la vita eh conduci fino però perché scriva quest'opera quindi non ma no non può essere io volevo intervenire così con qualche integrazione perché spunti interessantissimi ce ne sono stati molti a cominciare da quello del tutto contivisibile credo del discorso visivo della sottolineatura dell'aspetto visivo nel Morgante che è importantissimo credo però che accanto a questo aspetto visivo non si debba trascurare nemmeno quello sonoro nel quale non solo farei rientrare le tantissime ottave scoppiettanti ma farei rientrare anche specificamente quell'ottava del quindicesimo che è l'unica nel Morgante di rime univoche nemmeno complete perché sono soltanto primi diversi mentre come sapete di rime equivoche ce ne sono tantissime però io non credo che che Luigi si sia rifatto così alla moda che c'era che esisteva e che è testimoniata da tanti testi ma che l'abbia funzionalizzato e che abbia continuato anche nel Morgante a funzionalizzarla ancora in maniera più importante perché qui semplicemente oltre alla banale spiegazione che può rappresentare la sonorità dei colpi ribadendo c'è anche il fatto che sta dicendo che il duello non vede vantaggio di nessuno dei due quindi le rime che si ripetono non fanno altro che sottolineare fonicamente il concetto che non si va avanti e si rimane lì e vorrei anche ricordare però che sebbene non ci siano più ottave ce n'è un'altra un'altra ottava soprattutto nel venticinquesimo nel ventiquattresimo nel venticinquesimo in cui a essere ripetuta in un caso nei versi pari dell'ottava è la parola tempo che poi è ripetuta ancora due volte la parola tempo in fine di ottava non credo che possa essere un caso perché è quasi che Luigi voglia sottolineare anche in questo caso una sorta di incapacità di andare avanti col tempo che rimane lì l'altro aspetto su cui vorrei intervenire quello che forse mi interessa anche di più è appunto il padiglione di Luciana nel mio momento le note sono piuttosto grosse ma sarebbe forse la parte del morgate che dovrei ingrandire di più sia per contributi miei personali sia per contributi di altri e mi riferisco in particolare a quello che diceva Matteo con il quale mi trovo se ho capito bene abbastanza in disaccordo cioè perché c'è una differenza nettissima fra i due le due ecfasi del morgate quella del del venticinquesimo è esattamente corrispondente a quello che dici tu cioè è un un elenco di parole addirittura puri flatus vocis spesso sono bestie che non esistono che derivano da errori di trascrizione che dove c'è proprio il gusto quindi della sonorità fine a se stessa dove la realtà non esiste e qui siamo in un altro versante certo c'è la mitologia ci sono anche dei riferimenti classici io per esempio ho trovato per caso quando quando poi ho scritto per parole rubate avendo letto per il poliziano tanti classici che quando dice che il padiglione è stato confezionato con le sue mani da Luciano è un ricordo di Virgilio c'è un pasto di Virgilio cui dice speditamente con le sue mani ora non so se Fulci avesse accesso diretto a Virgilio l'abbia orecchiato in qualche altro modo ma l'ha fatto ma la cosa più importante è che qui soprattutto nella descrizione della natura c'è un realismo spaventoso da un punto di vista linguistico questa è una miniera io ero stato colpito nel mio commento dall'ottava dei pesci perché sono un uomo di mare e ci sono delle cose importantissime c'è la prima attestazione del sopieto benissimo per esempio per quanto riguarda i pesci il volabolario ancora oggi è estremamente regionale c'è un termine nazionale poi i pesci si chiamano a seconda delle varie regioni in maniera differente c'è la prima attestazione della parola toscana per dire spigola cioè ragno che risale a quanto c'è noi normalmente in toscana la spigola la chiamiamo ragno che ovviamente se uno va al ristorante e dice ti do un ragno questo dice ma c'è ma c'è di più l'aveva studiato Folena in un saggio sull'etionomia volgare ci sono tanti altri termini sulla questione per esempio in modo particolare su cui abbiamo rivisto prima di Roberti si può io il testo della Geno perché che aveva corretto congetturalmente Corvallo in Corvello no no Corvallo non solo è attestato ma addirittura appunto è la prima attestazione anche in questo caso ma ancora insisto una parola semplicissima che tutti conoscono polpo non è mica così scontata guardate polpo è la parola italiana che purtroppo i vocabolari ora sono portati a correggere perché tutti gli italiani sbagliano e chiamano il polpo polipo che è un'altra cosa no polpo è proprio una parola incrociata tra il pulps e la polpa che è il concetto della polpa e Pulci come vedete non si sbaglia dice polpo ma la stessa integrazione andrebbe fatta è stata fatta per esempio poco dopo la mia edizione nel 91 da un linguista per un'ottava che riguarda gli uccelli anche lì ci sono a prime attestazioni del modo toscano di chiamare certi uccelli non sto a farla lunga quindi qui veramente c'è proprio una miniera di realismo un altro mi è particolarmente caro fra gli uccelli quando dice che il gheppio parea dell'arvago è il tipico di atteggiamento del gheppio lo chiamano lo spirito santo quelli che fanno birdwatching che riesce a stare per aria fermo in attesa della preda che si manifesti semplicemente librando cioè è veramente c'è veramente del realismo vuol dire che lui l'ha visto per davvero anche perché era un cacciatore e quando gli capitava era anche un pescatore evidentemente grazie scusate non prevedeva nessuna risposta o forse verrà forse verrà no perché il Davide è qui ha da insegnare il Davide è qui ha da insegnare a tutti noi sì no no ma grazie no scusate chiarisco meglio scusate l'interruzione prima e ovviamente ha ragione Luca degli Innocenti cioè il dubbio è legittimo semplicemente io ricordavo che all'inizio in ogni proeme insomma di ogni cantare c'è sempre questa invocazione insomma quindi o o effettivamente così cioè vuol dire è un'invocazione puntuale che si va limitata a singolo cantare oppure ecco ha questo valore generale insomma viene reiterata l'invocazione ma che si riferisce appunto all'insieme no ecco io notavo ovviamente lodando tutti e tre interventi insomma veramente qui non si ha voglia di andare via insomma a stare e a continuare questo discorso ma però ecco partivo da Cantelli e insomma insomma mi colpiva il fatto che l'apologo di Rinaldo nel suo canto come dire che ha lo stesso valore del primo apologo del cantare no cioè come dire anche lì c'è l'apologo per rifiutare di dare il cavallo a Saracena cioè però nel primo caso finisce finisce male nel senso che Rinaldo fa seguire all'apologo i fatti e in l'altro caso invece sorprendentemente ecco non so mi chiedo se sia stata la maturazione di Rinaldo dopo la vicenda appunto dell'astituzione della corona Carlo Maggio e nell'altro caso invece come dire nonostante il senso dell'apologo sia lo stesso dell'altro però in questo caso lui magnanima cioè cede ovviamente il cavallo al re Marsilio forse qui dobbiamo immaginare che abbia imparato a distinguere come dire un po' le serarchie cioè quindi quando si tratta di Mattafolle ecco per Mattafolle aveva questo questo aspetto come dire era il tiranno Mattafolle era colui che aveva usurpato insediato dal dal re legittimo poi si era come dire arrogato aveva insomma un po' deviato insomma dalla retta via e quindi era diventato un tiranno insomma aveva compiuto azioni crudele eccetera quindi è stato punito nell'altro caso invece ovviamente il re Marsilio è per ora il re legittimo insomma quindi al quale si riconosce insomma legittimamente insomma anche la possibilità di donare insomma e quindi sottolineavo questo e forse c'è una maturazione non so c'era vedere qualcosa ecco muta qualcosa in Rinaldo insomma ci avviamo verso la seconda parte del del Morgante insomma ecco per Nicola Tor per Andrea Tor ricordavo appunto ma insomma questo forse è già stato anche sottolineato ovviamente dobbiamo pensare al padiglione di Luciana e quando pensiamo all'Orlando dobbiamo ovviamente tener conto dell'integrazione di De Robertis appunto del frammento del Fiera Braccia quindi questo fa pensare e ci mostra insomma che evidentemente questa ecfrasi aveva una tradizione o ha avuto non so una tradizione autonoma qui bisogna chiedere appunto a chi ne sa di più e quindi era molto interessante il fatto che invece in Pulci tu hai dimostrato Pulci lo rifunzionalizza nel senso che costruisce il cantare per come dire organicamente come dire comprendere anche l'equrasi che non resta così una esibizione di bravura insomma e quindi e quindi ecco queste minime osservazioni grazie intanto sono intanto sono appunto molto riconoscente per la domanda mi permetti di precisare un aspetto che due ottave premiavi gemelle nono cantare tredicesimo cantare inducono a mettere a confronto la materia e le modalità espressive dei due luoghi del testo e è un aspetto che non ho considerato nella relazione ma su cui appunto ho già iniziato a lavorare in vista della futura stesura degli atti proprio perché gli elementi di rispondenza sono molteplici la centralità del tradimento che è emersa anche nella relazione appunto sul canto nono questi singoli episodi la presenza delle novellette degli apologhi all'interno e questo collegamento è segnalato proprio dalla disposizione delle due ottave diciamo gemellari all'inizio dei due dei due cantari penso che ci sia se non un processo di maturazione quantomeno una diminuzione ecco degli aspetti estravaganti di Rinaldo nel canto tredicesimo sicuramente in quel momento il riconoscimento dell'autorità di Marsilio è molto più evidente c'è anche in qualche verso una discussione sullo statuto di Marsilio rispetto a Rinaldo Rinaldo e compagni sono travestiti non hanno le consuete insegne quindi non vengono riconosciuti da Marsilio nel momento in cui svelano la loro identità Marsilio cambia un po' atteggiamento e c'è un discorso su appunto i rapporti di autorità reciproca nel cantare in alcuni in alcuni momenti su cui non mi sono su cui non mi sono soffermato quindi mi sembra che questa osservazione sia assolutamente giustissima pertinente grazie sì anche sono contento ecco che la proposta di lettura abbia ti abbia convinto e direi cioè mi mi sembra che dal mio punto di vista possa tenere anche proprio in ragione dei rapporti di forza anche solo dimensionali che si creano all'interno del cantare cioè due terzi su tre sono un sono un'ecfrasi e quindi il terzo restante deve in un certo senso anche guardare no a quella a quella performance stilistica che che va ad introdurre così come gli otto le otto sette otto ottave finali ecco perché secondo me sono quasi più preziose quelle lì della prima parte no e e quindi quindi sì ecco da questo punto di vista mi sembra che 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 possa funzionare mi sentite sì no se posso avrei proprio una brevissima osservazione sul sull'intervento del professor Catelli sul cantare 13 e in particolare sulla xilografia che lei mostrava con l'abbraccio tra Rinaldo e Carlo Magno perché mi veniva in mente proprio a livello di di postura di impostazione dell'immagine che è molto simile a quella che apre il canto 18 della della liberata nell'edizione del 1590 realizzata da da Bernardo Castello quindi semplicemente chissà se appunto Castello avesse abbia avuto presente appunto questa xilografia e in più diciamo proprio partendo quindi diciamo da questa corrispondenza iconografica sono andato un attimo a rileggere i passaggi il passo del appunto l'inizio del canto diciottesimo della liberata quando Rinaldo torna finalmente a Gerusalemme viene accolto dai crociati abbracciato da Goffredo e in effetti sembrano esserci proprio alcune corrispondenze con il passo del del Morgantri in alto che va appunto ad abbracciare il Carlo Magno e Goffredo quindi mi chiedevo appunto chissà se ci possa essere qualche tipo di corrispondenza appunto non solo nell'apparato illustrativo ma proprio testuale tra tre e due passi e e poi appunto un'altra brevissima chiosa invece in rapporto al discorso del naso di Diana perché vedevo che nell'epistola della peste di Machiavelli ricorre proprio la stessa immagine quando viene descritta la donna in vesti vedovile vedovile che viene che si incontra a Santa Maria Novella e qui si legge aveva riferita appunto a questa donna da Iunone del suo ovviamente stesso naso la forma tolto e poi appunto si fa riferimento a Venere quindi mi sembra in realtà che Machiavelli stia riprendendo proprio il passaggio di Pulci quindi diciamo comunque la cosa non si risolve perché si tratterebbe sempre della ripresa di questo passo però è interessante che magari in un contesto fiorentino la cosa era nota anche a una certa distanza cronologica grazie grazie intanto anche per questa domanda parto da tasso non avevo pensato al possibile riferimento anche perché penso non ci sia nulla di più distante da da pulci di tasso e quindi sarebbe molto significativa in realtà questa possibile intertestualità per inciso è anche interessante che a veicolare un possibile rapporto intertestuale siano le immagini per cui è come dire il raffronto iconografico che ci invita a dei percorsi nel testo a cui probabilmente non avremmo pensato che non avremmo intrapreso senza questo supporto illustrativo questo è una conferma della funzionalità anche esegetica anche esegetica delle immagini dal punto di vista iconografico penso che sia plausibile la quantomeno che ci fosse nell'occhio ecco al momento dell'invenzione delle tavole per la liberata che ci fosse nell'occhio questa tradizione di immagini sicuramente il furioso è ovvio ma anche il pulci che rientra un po' nella galassia furioso anzi rientra più che un po' l'edizione comindatrino è una sorta di edizione di staccata di giolito quindi siamo all'interno di quel filone raffinato e autorevole quindi potrebbe tranquillamente essere stata veicolata in questo modo tanto più che se non ricordo male le immagini dell'edizione del 1546 di comindatrino vengono utilizzate ma non ricordo in che anno per edizione di cinque canti di giolito quando i 548 grazie quando i cinque canti non avevano ancora l'apparato illustrativo e loro utilizzano peraltro con una grande pertinenza e affinità con il testo le immagini dei pulci di quell'edizione pulciana per illustrare i cinque canti per cui potrebbero anche essere stati veicolati magari se non dalla lettura diretta di quell'edizione specifica di pulci magari dei cinque canti dove pure sono presenti quelle tavole grazie ringrazio anch'io per la segnalazione non ho capito bene in che passo di Machiavelli quindi sì probabile sì appunto in caso di Machiavelli quindi sì ci può essere questa tradizione che poi quello poi era non l'ho detto ma c'era anche era Herder mi pare perché a un certo punto parla anche nel caso di Giunone l'anno non so forse per riferimento a Giunone come maestosa no in quanto regina degli dèi forse era per quello però ho trovato questo riferimento così distante anche poi nella Germania di fine settecento vabbè più che altro una curiosità però no interessante il fatto appunto che Firenzuola Machiavelli questa fortuna toscana insomma vabbè depone a favore di questa grande fortuna del Morgante io voglio fare due rapide domande a Nicola una sul passo quando Marsiglio riceve Rinaldo e i suoi e c'è anche Olivieri dopo che si sono pacificati c'è questo strano momento di ritualità estrema in cui si toccano la mano che non so bene è molto frequente nel Morgante questo di toccarsi la mano tenersi per mano tra cavalieri ma in questo contesto è replicato e c'è Olivieri che si rifiuta di dargli questa dice ma Olivieri si è scusato e difeso e non gliela dà non saprei come interpretarla e ti chiedevo se potrebbe essere un qualcosa che aiuta a decifrare un po' l'episodio anche considerando che quando poi nell'ottava 48 Marsiglio li porta a corte tiene per mano sempre Rinaldo questo tenere continuamente per mano è una cosa insistita quindi deve avere un valore su un altro per enfatizzare la ritualità e l'altra domanda è per Andrea velocissimo questo discorso del padiglione come dono d'amore come dono e come dono d'amore vi risulta nella tradizione dei padiglioni o è una invenzione di pulci cioè che il padiglione sia donato e poi sia donato come pegno d'amore di Luciana per Rinaldo mi ha colpito questo fatto e quindi potrebbe inserire il padiglione essendo un dono d'amore all'interno di una tipologia diversa che potrebbe essere un'osservazione utile per interpretarlo non so se avete idea al riguardo grazie alessandro è un punto molto curioso in effetti del canto perché è evidente che pulci vuole creare uno scostamento tra Olivieri e Marsilio perché Olivieri rifiuta proprio la mano c'è una c'è una netta volontà di 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 prendere le distanze il significato non credo sia chiarissimo a me non è chiarissimo sicuramente serve a diversificare il comportamento dei due personaggi Rinaldo e Olivieri e quindi anche a sottolineare quella quell'ideale di concordia che Rinaldo è in grado di garantire in quel momento e altri no d'altra parte Marsilio aveva lasciato passare le truppe che aveva nel canto nel cantare ottavo che avevano poi partecipato all'assedio di Parigi quindi in qualche modo aveva aiutato questo e poi li aveva appena attaccati li aveva appena così combattuti affrontati costretti costretti al duello la magnanimità di Rinaldo nel momento in cui accetta la mano e accetta di essere preso per mano e di farsi condurre supera questi elementi di possibile conflitto e in questo in questo senso prosegue quella linea di perdono che c'è anche nel canto nel momento in cui perdona Carlo anche immeritatamente anche laddove diciamo il rapporto di gratitudine non è poggiato non può poggiare su un beneficio ricevuto grazie grazie è una domanda molto interessante stavo anche parlottando con Cristina mi viene in mente dopo nell'Orlando Furioso qualcosa di simile prima nella tradizione nella tradizione canterina non saprei quelle quelle testimonianze che ho visto non in realtà non hanno questo tipo di anche di 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 cornice che giustificherebbe connoterebbe in tal senso il il padiglione un uno scrupolo che però dovrei dovrei verificare potrebbe essere in boccaccio verificare nel Teseida se c'è qualcosa di analogo però è proprio soltanto un se qui c'è qualcuno che ha perfettamente in mente il Teseida senza ricorrere a Google però quello potrebbe essere un luogo e questo in realtà mi mi dà l'occasione forse per guardare in boccaccio anche per un altro aspetto cioè quello che si ricordava prima del dei cataloghi e soprattutto dei cataloghi faunistici con esempio la caccia di Diana che è proprio organizzata anche con chiaramente non diciamo in realtà con una non ecfrasi che è un catalogo appunto di che è un bestiario ecco anche qui poeticizzato e quindi ecco vedere magari anche nel al di là dei repertori più canonici vedere ad esempio appunto anche nella tradizione delle cacce se può intervenire se può intervenire anche questo genere ecco come possibile ipotesto però sul discorso del padiglione è una cosa che effettivamente bisognerebbe approfondire meglio grazie posso dire una cosa questo al volissimo an croia c'è appunto costanza che dona al figlio che sta partendo un padiglione e un'armatura e e poi c'è una descrizione del del padiglione della sua ricchezza delle storie che vi sono illustrate la lotta tra ercole e anteo la seconda narrativa del minotauro quindi c'è tutta una serie di per cui perlomeno il padiglione come dono è una madre che lo dona al figlio quindi non è esattamente un dono d'amore ma come dono sì come dono c'è nell'attestato almeno questo caso poi bisognerebbe tornare a vedere grazie se non ci sono altre domande è una prerogativa dell'oralità non mi posso correggere non dicendo quello che ormai ho detto però l'avrei dovuto farlo prima ho rivisto un po' i broemi dei primi cantari a parte che si quando si arriva a metà si parla di mezzo e il primo comincia con il principio quindi l'idea di che fine significhi la fine del poema e non del cantare ha perfettamente senso ero stato tratto in inganno più da quello del cantare nono devo dire perché nel cantare del tredicesimo si dice infino al fin mi mena di questa storia e storia è molto probabilmente l'intero arco narrativo nel nono si dice insino al fin mi mena a ciò che il mio cantar piaccia a chi ascolta e lì allora cantare potrebbe essere il singolo cantare c'è una piccola ambiguità però probabilmente risolvibile ecco per lo più fine fine di tutto quindi come se non come non detto no anzi come detto perché secondo me è una è comunque una buona suggestione è proprio perché come dicevi tu qui ci sono gli unici due riferimenti alla presenza di un pubblico quindi quantomeno una a livello di di ottava premiale dico e quindi quantomeno come dire una suggestione in questo senso poteva poteva esserci va bene siccome abbiamo fatto già abbastanza tardi non farò le conclusioni però un paio di cose mi sento di dirle cioè la prima è questa qui noi abbiamo provato a fare una lettura per canti tiene l'unità canto nel 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 morgante cioè per esempio per l'esperienza che ho tasso è quello che meglio si prestava una lettura per canti a riosto abbiamo avuto sempre dei problemi perché perché l'antralasman rende difficile poter isolare un'unità qui l'antralasman non c'è però sicuramente Pulci lavora anche assemblando cantari che trova nell'Orlando ecco interrogarsi fino a se fino a che punto tiene mi sembra che tutto sommato funzioni cioè quello un'altra cosa che mi è parla di notare non so però questa è una sensazione potete benissimo contradirmi o rifletterci cioè che Pulci cresce voglio dire che nei primi canti era difficile staccarsi da una lettura che non fosse paratattica e puntuale no mentre invece da un certo punto si sono individuate delle chiavi di lettura che potevano essere temi o coso no che valevano per per l'intero canto ed era convincente quando c'è il tradimento la vendetta e così via quindi o lo so è vero che insomma la sensazione è che il Pulci che inizia che è molto legato al cantare sia profondamente diverso non solo da quello della seconda parte ma anche via via da quello che compare via via nel corso del poema l'ultima osservazione che voglio fare la devo fare perché allora se qualcuno ci avesse ascoltato e non avesse letto il Morgante si chiederebbe perché mai questo poema viene presentato come un poema comico o eroi comico eh cioè dalle nostre descrizioni è l'opposto pare un poema serissimo eccetera allora ritorno a quello che è stato posto come problema dove sta la comicità quali sono non è cioè dal punto di vista situazionale le scene comiche per esempio l'Orlando non è comico oppure no eh anche questo non lo so però le situazioni comiche nell'insieme non non sono forse la parte no quindi come accennava anche San Girardi anche Residori è sul piano della lingua e dello stile che va ricercato questa però sta di fatto che noi dobbiamo arrivare a conciliare queste immagini così cupa di questo poema con il fatto che invece è anche un poema no comico e divertente cioè è una domanda che pongo questa però insomma dubbio ecco questa era no ma non è solo quello perché dai il saracino inalberato lì fa morire dalle risate no oppure cioè non oppure il bucolino quello che ha piattato nel bucolino con lo scoppietto e tira sono comiche sono non eh vabbè insomma ci ho detto allora alla chiudiamo così e ci alla prossimo al prossimo appuntamento grazie